Buonasera, buon pomeriggio, buon pomeriggio, com'è Beppe? T'è a posto? T'è a posto, sei tu? Insomma, facciamo andare, facciamo andare, tendenzialmente fa un caldo di Cristo, quindi tra l'altro partiamo, facciamo così, questo video di anteprima 384 parte già con delle scuse, intanto quando parlo io si potrebbe talvolta sentire il ventilatore di sottofondo, non lo so, perché sto caldo di merda ha rotto il cazzo. In secondo luogo, avevo detto che la 383 avrei fatto il possibile per farla uscire a inizio agosto, palesemente non è successo, ma perché ci ho avuto dei buoni motivi, nel senso che sono state tutto un cambio di lavoro, di mezzo, un cambio di mestiere, insomma, dei momenti attimi di terrore. Esatto. La 384 ci stiamo lanciando sulla parziale perché se ci mettiamo anche qua ad aspettare la completa è finita, quindi per questo mese sarà solo parziale e poi vedremo insomma che cosa combinare. Intanto due parole sul video che andiamo a fare, per chi non lo sapesse, questa è la rivista catalogo che esce ogni mese in fumetteria e in digitale in formato parziale anche sul sito di Panini Comics che fa insomma un po' un elenco delle uscite, uno showcase di tutte le novità dei fumetti che devono uscire, che poi saranno disponibili eventualmente in fumetteria e nelle librerie. Noi tutti i mesi ce la sfogliamo, guardiamo un po' le uscite interessanti con un paio di commenti, facciamo questo servizio, insomma, come vi leggeste il pdf a casa vostra, fatti vostri, però di base ci siamo anche noi che commentiamo, che la spieghiamo, diciamo due stronzate. E poi diciamo che cosa prendiamo noi, insomma, che cosa ci gasa. Insomma, come leggere un'anteprima in compagnia. Io direi di non perdere altro tempo e niente, basta, perché tanto la parziale tutti i cazzi di mezzo non ce li ha e quindi non ci sono. Esatto, niente. Si parte direttamente con DC Comics Batman vs Robin Lazarus Planet numero 5, come al solito, con tanto di variant da 7 euro, quindi sono 5-7 euro. Queste le stavamo facendo entrambi. Beh, in realtà, tu stai facendo sia variant che regolare, vero? Sì, sì, sì. Quindi sono sicuramente 12 euro per te. E io in realtà alla fine della fiera è andata a finire che sto prendendo solo le variant. Ogni anteprima le ho messe entrambi in conto e poi in realtà le regolari le ho sempre lasciate lì, poi vediamo, poi vediamo, però ora sto prendendo solo le variant. Quindi sono 7 euro per me, per questa variant che non sto ben capendo, però non si capisce bene. No, non si capisce tanto bene, si vede un po' sgranato, sembra Damian dentro un qualcosa. Dentro, va bene. Non importa, allora, tu che stai leggendo, che sei in pari, che ci dici? E in pari, io sono al numero 2, perché ho ritirato il numero 2. Qua siamo tanto avanti. In pari con quello che hai, in pari con quello che hai uscito. Ma siamo tanto avanti, io di più di quello che è successo, che ho raccontato già nel primo nu, della vecchia anteprima. Ok. Non posso dire, perché in realtà si è scoperto solo come è stato impossessato Robin, perché Robin, cioè Damian, però sarebbe Robin, ha attaccato suo padre e si è venuto fuori che in realtà non è proprio lui che c'era col padre, ma è impossessato da un demone. Quindi c'è la magia di mezzo. Proprio di dirvi questo, per il momento ancora non si è svelato l'arcano, Batman sta cercando di capire come esorcizzare il figlio, tra virgolette. Vabbè, ma per dire, già questo l'altra volta non ci avevi detto, non hai parlato di demone. Sì, 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 perché è uscito col secondo numero, è uscito col secondo numero. E' buono, quindi già questo è interessante, che fino all'altra volta ci chiedevamo, ma perché devono scannarsi? E' buono, quindi abbiamo Damian impossessato da un demone, aspetta solo un po' con questo. Legato alla sette degli assassini, quindi a Talia. Chiaro, 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 va bene, va bene. E' buono, niente, qua c'è poco altro da dire, ne abbiamo già parlato. Sono padre e figlio che si scannano, più tutta, si ficcano di mezzo, tutti gli altri di mezzo. Robin, conscio di i suoi errori, farà di tutto per redimersi. Ma se la chiama per risolvere la situazione fosse Monkey Prince, raga. Eh, raga, Prince, a dire. Esatto. Purple Rain, Purple Rain. Purple Rain. Va bene, allora, detto questo, si passa al periodico di Batman, 81 e 82 entrambi ad ottobre, essendo oramai quindicinale. Sono 5, 6 euro, 11 euro a testa. Come prosegue da dopo la chiusura della Randi Zdarski? Cosa succede, Peppe? No, allora, io la chiusura della Randi Zdarski, in realtà ho letto il finale. Mi manca ancora un numero per quella chiusura, tra virgolette della prima stagione, eccetera. Qua fanno già riferimenti a Maschera Rossa, che io ancora non so chi sia. E si è chiusa in maniera molto drammatica per il Cavaliere Oscuro, perché Filesafe è stato abbastanza tostarello come nemico. E praticamente questo Filesafe, senza fare top spoiler a chi magari vuole leggerlo, chi magari indietro, è un androide creato da Bruce Wayne, durante la sua giovinezza da Batman. Una contomisura contro se stesso, fondamentalmente. Se Filesafe praticamente cataloga tutte le informazioni che succede a Gotham, e se in questa catalogata e scopre che Bruce Wayne è uscito fuori di testa, si attiva questo androide che ha tutte le forze di Bruce e non le sue debolezze, lo deve far fuori. Praticamente il pinguine è riuscito a far credere che Bruce sia un assassino, che Batman sia un assassino, quindi si è attivato Filesafe. E quindi lui ha combattuto contro Filesafe, ed è stato abbastanza tosta come scontro, perché ti immagino un Batman senza debolezze. Perfetto. E li ha presi Superman, perché a un certo punto è arrivato anche Clark, a dargli una mano, ma non ci sono stati cazzi. E niente, quindi è finita in maniera drammatica, non voglio sponerare come. E comunque è stato abbastanza... Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Ero lì comunque in tensione, quando ho visto pure Superman pigliare degli schiaffi allucinanti, ho detto, madonna, se neanche lui riesce a fermarlo. Anche perché Batman ci ha già dimostrato che l'Ele può suonare a Superman, indipendentemente dall'essere potente o no. O essere un kriptoniano o no. E quindi è bello. È stato bello. Quindi questo è fondamentalmente. Ok, ok, interessante. Se ci pensi, comunque, Bruce Wayne... Cioè non è la prima volta. Bruce Wayne è un maestro di ficcarsi nei casini, perché si deve fare dei grandi segmentali, dei grandi piani, poi si ficca nei bordelli per dover sostenere. Esatto. Cioè questa roba con una contromisura che si è inventata da lui stesso, che si è addirittura quasi scordato di aver creato. E quando capitavano anche delle altre robe in cui delle situazioni potrebbero essere fraintendibili, quindi Batman cattivo, eccetera, c'era Alfred nella caverna che stoppava l'inserimento di Failsafe, no? Certo. Perché adesso Alfred non c'è più. E quindi lui è rimasto, si è attivato. E quindi, boh. E quindi sono solo dei cazzi, va bene? Interessante, molto molto interessante, va bene. Vedremo poi, ci fa risapere anche come prosegue. Batman è chiaro, Batman 83 Blind Pack. Ne abbiamo già parlato di quanto hanno rotto il cazzo. Allora leggiamo un po'. Il fumetto sarà venduto in un pack sigillato dal contenuto segreto e all'interno del quale avrai la possibilità di trovare il numero 83 in versione regolare, Variant Limited 500 copie o Variant Ultra Limited 50 copie o Variant 1 di 1. Iniziativa valida solo sulla prima tiratura. È una copia. E palesemente hanno fatto la stessa identica cosa che per Miles Morales. Io ne ho ordinati due. Eh, farò anch'io. Sì, esatto. Esattamente come per Miles. Una si apre e tanto sarà la regola e va bene così e l'altra si tiene piena e chiusa con la busta. Tu le apri tutte e due? Io le apro tutte e due. La busta la di sigillo, diciamo. E l'altra la apri e butto. No, no, io ne apro solo una. L'altra, sai, la tieni chiusa per l'illusione. Cioè, tanto le Variant non le puoi avere, no? Allora la lasci lì chiusa e dici, boh, qua simboleggia la Variant che mai avrò. Ti dà l'illusione di poterci avere una Variant dentro. Un discorso un po' filosofico mio, anche perché non ho intenzione di fare come quelli che se ne compran 10. Perché sta roba qua è veramente d'accani. Ci sono stati passati, hanno comprato i 20, cioè, tipo figurine, eccetera. Eh, sì, sì, e poi ti trovi i 20 regular. 20 regular che è... No, ragazzi, mi rifiuto. Anzi, già che gliene compriamo due, sono più che tanti. Allora, a questo punto sono 6,6, 12 a testa. Sì. E va bene. Joker, l'uomo che ha smesso di ridere, numero 6. Sono 3 euro per il buon Beppe. Ci hai detto che prosegui in maniera abbastanza bestiale. Eh, spacca tutto. Sì, sì. Sì, allora, devo leggerne ancora uno, però fondamentalmente è come l'altra volta per il momento. C'è questo mistero che ancora non è stato svelato. Dessi due Joker, una Gotham, una Los Angeles, e bisogna capire chi è quello vero e chi è l'impostore. e ovviamente tutti e due sono, soprattutto quello di Los Angeles è abbastanza spietato. Proprio nel momento ancora non è venuto fuori niente, anche perché ha poche pagine. Giustamente costa anche 3 euro, c'ha 32 pagine. Cioè, tutto questo proseguimento di trama non c'è. Cioè, sì, qualcosa si muove, ma... Cioè, in confronto ai comics da 5 euro, che c'è qualche pagina in più, che magari vai un po' più avanti, lui va, cioè, come numero c'è... Questo qua, questo Joker va un po' più con calma, però vabbè, mensile, pian piano. Spoiler, spoiler, quello di Los Angeles era Gianni Morandi. Perfetto, buono. A posto. Va bene, Batman... Io chiamo Pippo Franco. Esatto, anche Pippo Franco ci sta, ci sta. Che fico, che fico. Batman e Superman i migliori del mondo. Ad ottobre, che nessuno dei due fa. Superman 53, ad ottobre sono 6 euro per Beppe. Ci hai mandato delle foto. L'altro giorno eri caldo come un boiler, stavi... stavi... espellendo... fluidi da tutto il corpo per il figlio di Superman contro Darkseid. Allora, quella roba lì è legata ovviamente a Superman, ma è una roba che è successa in crisi oscura sulle terre infinite, in realtà. Io, essendo indietro su tutto quanto, non so un cazzo. Sì, ma tanto l'ho mandata appunto, perché tanto quando arriverai tu a leggere quello te lo sarai già dimenticato, quella roba lì. Cazzato. No. E quindi è legata a quella roba lì. Cioè, la Justice League era scomparsa nella crisi oscura, e quindi hanno dovuto fare i giovani. E c'era praticamente questa scena in cui l'entità malvagia di universo DC, quindi Darkseid e soprattutto Doomsday, attaccavano gli eroi. Allora, Superman, intendo il figlio, per guadagnare tempo, ci si lancia da solo, e io dicevo, non ha pienamente coscienza contro chi sta andando. Non c'è da solo. E poi, bom, quella lì era questa piccola parentesi delle crisi oscure. PS Schiaffi, poi arriva suo padre, lo salvo. Invece qua su Superman, io qua sono tanto avanti. Perché io ancora devo vederlo tornare, Superman. Superman da me è ancora un mondo guerra che sta facendo Planet Hulk. Si sta facendo, sta cercando di... Ah no, si ferma a quattro anteprime fa. Eh, ma perché qua sono tanto avanti. Io sto leggendo adesso il 49, e c'è il 50 da leggere, qua siamo a 53, che sarebbe il finale. E devo leggermi il finale di quella storia. Visto che poi Superman dopo questo, addirittura, ecco infatti, poi ci arriveremo dopo, ripartirà poi dall'1, e questa qui sarà la conclusione, e poi si riparte dall'1, penso. Così sicuramente. Ok. Sarà la conclusione, quindi ne parleremo nelle prossime anteprime, anche magari se avrò letto già Superman 1. Ma sì, allora a questo punto, infatti, se poi c'è qualche nuovo lettore che si vuole avvicinare, questa c'è sempre, questa occasione che ogni tanto si presenta, del numero 1, della numerazione che si riazzera, quindi può essere, può essere un'occasione. E va bene, ed eccolo qua, infatti, Superman 1, e quindi a novembre per 5 euro di regolare, e poi due variant, tra cui potrà scegliere, a 7 euro l'1. Io prendo più. Perché altro come un boiler, va bene, sono 19 euro per Beppe, sono carine anche le variant, però... Sì, e poi soprattutto, almeno qua le puoi comprare, cioè non è a sorte, boh, me le fai due, me le prendo tutte due, e boh. ma valgono di meno. Me ne fottro. Ma è fatto. Per la modè, per la modè del personaggio. Ma sì, ragazzi. Questi hanno visto, boh, stanno trasformando i fumetti, nelle carte collezionabili, hanno visto sta febbre che c'è, e le carte collezionabili. E che dire, tu l'altro giorno mi hai detto, ma potresti approfittarne, io sono un po', perché sai, spillati, andare, cioè spillati, io faccio Spider-Man e Batman, e poi... No, ma io lo dicevo perché tu, qualche anteprima fa, o comunque anche mentre chiacchieravamo così, a cazzi nostri, dicevi, mica cazzo, a me Superman è un personaggio che piace, però buon qua. Esatto, però, cioè, riavvicinarsi al personaggio, non vogliai per forza fare gli spillati, uno si può prendere anche i volumi. cioè chiaro, sì sì, puoi fare, sì sì, puoi anche prenderti poi la run, che raccogliano il volume di questo. Esatto, però, vabbè, posso sempre, posso sempre pensarci, vediamo cosa succede, perché boh, gli spillati, cioè, veramente, troppo, cioè, ho ridotto a quei due supereroi là, che sono i due imprescindibili apposta, quindi non so, se mi lancerò su super, non è in belle le variant, comunque, è molto bello. Sì, sono belle, soprattutto quella di Kavert, che sembra proprio, boh, mi piace questo, in realtà anche con l'essere dietro di Fede Vichel, guarda che ci sta, guarda che ci sta, va bene, ci rifletteremo, comunque questo, come dicevamo prima, è sicuramente un'opportunità, eventualmente, per i nuovi lettori, l'uomo d'acciaio è tornato in azione, l'arce nemico è dietro le sballe, però l'ex lutor trova sempre la magna di caccare il cazzo, va bene, esatto, va bene, va bene, vedremo che succede. Flash 42, Wonder Woman 44, non siamo interessati né a uno, né all'altro, J Lady Grant Morrison 15, Lanterna Verde di Geoff Jones 13, questi sono sempre i brossuratini per fare i recuperoni, insomma, qualora uno non li avesse fatti in spillati, o in volume ai tempi, abbiamo Batman Europa con faretto completo, ma non l'avevano appena fatto, non l'avevano appena rifatto, avevano fatto qualche cacchio, avevano fatto per me, ma adesso non mi ricordo, avevano fatto tipo il cartonato, ma sì, l'hanno appena fatto, sì sì, adesso stanno facendo un cofanetto, Batman Europa cofanetto completo, 58 euro, Batman Europa compendi, un più cofanetto, 30 euro, a novembre, quantissimo cofanetto a collezione per raccogliere Batman Europa, un'incredibile edizione deluxe, Sì, io ce l'ho già presa, ne avevamo parlato, ma poi perché, se abbiamo appena fatto il volume, perché devono fare questa cosa qua? Magari perché ci sono i feticisti dei cofanetti, quelli che si gasano, vedi tutto in cofanetto, ma ha avuto così tanto successo Batman Europa, ma non mi sembrava, ma no, ma io in realtà l'ho trovata carina, però non l'ho trovata, perché è disegnata da Jim Lee, vabbè, ma io in realtà non l'ho trovata questa roba stratosferica, a dire no, questa qui, deve per forza, io l'ho trovata, l'ho trovata carina, finita lì, l'ho messa insieme a tutta la roba che c'ho, e boh, quello qua boh, se sono, forse perché parla proprio di Batman, che poi un certo punto arriva pure a Roma, c'era l'Europa boh, e boh, allora se arriva a Roma, diciamo, andiamo con lo seo, ci piscià, boh, io sta roba qua l'assalto a pie pari, cioè non ha nessun senso, mi ha appena fatto, boh, boh, va bene ragazzi, buona fortuna, perché comunque si gasi, con tutta roba qua, e che vi devo dire, ma anche perché, Batman Europa cofanetto completo, Batman Europa compendium più cofanetto, due robe, eh sì, nel senso che il primo c'è sia Batman Europa, che il compendium, e quello sotto, ma secondo me hanno sbagliato a scrivere qualcosa, perché sotto mi dici compendium, e mi dici che contiene Batman Europa 1.4, e non è normale questa cosa qua, secondo me si sono un po' confusi, quello sopra conterrà Batman Europa da 1.4, più il compendium, e quello sotto è il compendium, secondo me hanno scritto, cioè c'è un po' un errore di battitura, però sì, tu con 58 euro tendenzialmente hai tutto quanto, cioè sia il compendium che Batman Europa, magari sì, magari ne dici una figa, boh, vediamo, tanto magari lo ripropongono ancora, tipo prossimamente prima, con qualche informazione in più, comunque se qualcuno dovesse avere qualche info, ce le può sempre scrivere qui sotto, del perché e del per come, e va bene, Superman Unchained, 37 euro di cartonato ad ottobre, grandissima richiesta, la storia di Superman che unisce i testi di Scott Snyder alle matite di Jim Lee, e questa è, porta pazienza, questa era New 52 sta roba qua, no, no, come no? New 52, 2013? eh sì sì, ma è una storia che ha scritto come fosse Batman Europa, per dire, non era in continuity? no, non era in continuity, c'è scritto Superman Unchained 1, 9 era proprio uno spillato da 9 numeri, io non l'avevo fatta, e la sto prendendo, l'ho ordinata, l'ho ordinata perché, perché Snyder è quello che ha fatto, la corte di Batman, e io con i disegni di Jim Lee che, sono bestiali, la sto prendendo, c'è questo evento qua, questo racconto qua, ecco, per oltre 70 anni, gli Stati Uniti hanno avuto un super uomo alieno, tutto loro, da usarne nelle missioni più segrete, ma sarà un alleato per Kal-El, oppure no, è bestiale, e cosa lo lega all'organizzazione terroristica, vabbè raga, beh, chissà, ottobre, 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 37 bombe, caruccio, eh caruccio sì, caruccio sì, 352, quelle di Sidelac, sono belli, quei cofadetti, quelli, scusa, quei cofadetti, quelle edizioni, cattonate, ci rifletto, eh, io ci rifletto un attimino, sono 37 euro per Beppe, io ci penso un attimo, però, eh, questo, esatto, cioè, piuttosto che buttarmi sullo spillato, mi butterei già più su questo, tra l'altro, autori che conosco, quindi, però, mi dice qualcosa, perché era una roba che avevo già sentito, una roba che, secondo me, sei sicurissimo che non sia uscito in continuita? Ma a me non mi pare, però, cioè, io sono, anche perché, proprio si chiama, contiene Superman Unchained 1-9, ma è che c'entra, è una roba del tipo, eh, lo so, lo so, perché la testata normale si chiama Detective Comics o Superman, no, scusa, Detective Action Comics o Superman, la testata americana, che lo do, no, va bene, aspetta, devi stare fermo, che lo abbiano fatto, magari, in una testata a parte, mi fa piacere, ma, ma tu dici che era dentro, dentro degli spillati, cioè, come, come, sai, quei spillati che faceva la Lion Con, magari, la serie regolare, più un Superman Unchained, ah, tu dici quella roba lì, bisognerebbe fare una ricerca, vabbè, vabbè, poi, insomma, andremo a scoprire questo Superman Unchained, comunque, bisogna informarsi in attimo, Wild, Wild Cats, meglio vivere attraverso la violenza, capito? Cazzo di game mostro, ad ottobre, ad ottobre, non me ne frega, un cazzo, no, neanche me, non lo prego, ma, solo per discorso, non perché fanno schifo, ma perché bisogna fare delle scelte, quest'anteprima, come vedrete, ci saranno delle robe, per comprare, una bella carica, ascolti me, sbatti il cazzo, va bene, Demon Degar Tennis, volume 1, per esempio, 34 euro di cartolato ad ottobre, storia di Degar Tennis, disegni di John McCree, l'avventura di Degar raccolta per la prima volta, in una serie di prestigiosi volumi cartonati, non ti stai pisciando, no, perché di cartoni spendo altro, su quest'anteprima qua, però dopo esempio, discorso di scelte, in realtà, volume 1, 34 euro, mi sa che stai, eh, lì poi va avanti, sì, esatto, quindi, è andata così qua, Batman Legends of the Dark Knight Collection, cofanetto completo, 195 bombe ad ottobre, questo è Cesco che si casavano, questa roba qua, sì, però, da quello che si è capito, forse, è un cofanetto, ma non sono cartonati, ma sono dei brossurati, e vabbè, ragazzi, dentro il cofanetto è facile che mettono i brossurati, eh, questo, cioè, mi sembrava abbastanza, e quindi, boh, mi sa che noi dei brossurati di questa serie qua, io avevo quelli della Planeta, sì, che io ho lasciato perdere, tanto ce li avevo, però chi non ce l'ha, ce ne è tutti qua, ce ne è tutti incofanettati, sì, se c'hai voglia di buttare 195 bombe, per carità, esatto, esatto, che ci puoi dire di questa saga qua, era roba per cui pisciarsi? era una saga di autori, c'erano grandi autori, fondamentalmente, c'erano una saga, erano proprio delle leggende scritte da, tipo autori, come leggete qua, perché qua c'è scritto, autoconclusivo, tutte storie autoconclusive, sono 12 cartonati, qua dice cartonati però, Cesco dice, vabbè, 12 cartonati, costruite autoconclusive, da García López, Steamsail, Ghoul, Sig Russell, Cechin, poi ho visto che c'è anche, Garth Tennis, Warren Ellis, Graham Morrison, Mark Millar, ci sono proprio dei grandi autori, che facevano queste sagge autoconclusive, non legate alla continuity, proprio delle leggende, infatti si chiamano leggende del Cavaliere Oscuro, e sono belle, sono proprio belle. Cioè a dire che siete i migliori, no raga, perché forse sono brossurati, allora, tu ce l'ha scritto, no no, ma qua c'è, come diceva oggi, poi qua c'è scritto, 12 cartonati, cioè siete, questo è palesemente quando fate speedrunt, infatti, e così qui c'è proprio scritto cartonati, infatti poi gli mando, gli mando la foto dopo a Cesco, perché, boh, io, piccio, piccio e più piccio, va bene, no, 195 euro per me, tu mangi. io, no, questa roba qua, abbiamo capito, non è che devi flexare, che c'hai tutto, sei la bibbia, va bene, basta, ma ce l'ha lui, lui flex, ah, ce l'ho già in cascina io, questa cosa qua, ah, sfrega le mani, caldo come un buon, va bene, e qua, giustamente abbiamo, abbiamo, nel dettaglio, riusciamo un po' a vedere, che cosa, penso si possono prendere, anche singolarmente, magari uno dice, no, ma io voglio solo quello di, che cacchio ne so, di, 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 che cazzo, vi leggo tutti gli autori, Sì, ho capito, ma ha senso, e boh, ti compie quello, però, non lo so, secondo me ha poco senso, ti prendi, ti prendi tutti, ti fallo pigli, poi c'ho solo il volume 4, mi caso così, non lo so, mi sembra un po', però, vabbè, io quando dico queste cose, solitamente vengo criticato, ma l'importante è leggere, mi dicono, gente che poi non, che poi compra e non legge, ma l'importante è leggere, questa è fatta dell'edizione, poi non leggono, vabbè, questi sono, sono altre cose, che su cui sorvoliamo, comunque qua avete nel dettaglio, eventualmente volume per volume, sono 17,15 euro l'uno, e va bene, DC Absolute, Batman lo specchio nero, 50 bombe a febbraio 2024, per anni Batman e il commissario Gordon, hanno combattuto il crimine a Gotham, senza mai esitare, ma le ultime sfide, stanno facendo vacillare, persino loro due, un'ondata di criminalità e violenza, senza precedenti, si scatena in città, e Dick Grayson deve sostituire Bruce Wayne, sotto la maschera, attenzione, il mistero più grande, però, è rappresentato da James Junior, figlio di Gordon, e dalle sue tendenze psicotiche, che figo, un classico disco, di Scott Snyder, gioca Francesco Gavello, allora, questa roba qua, è una edizione, che è riuscita anche in Absolute, già con la Lion, infatti ho l'Absolute gigante, della Lion, di questa roba qua, devo ancora leggerlo, perché alcuni Absolute, ho detto, vabbè, tanto questo qui, non si è andato conclusiva, posso leggerlo, quando che voglio, e devo ancora leggerlo, però, io l'avevo preso, perché la sua fama parlava da solo, dicono che sia veramente bello, proprio bello, 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 e io l'avevo preso, ho visto questo Absolute gigante, ho detto, lo porto a casa, ma Lion è ancora, quindi stiamo parlando di, 4-5 anni fa, credo, qua addirittura con Sleep Case, io ho proprio solo il cartonatore gigante, qua, sembra, incofanettato, quello Sleep Case, è sempre bello, ci sta, allora, sì, per 50 bombe, però febbraio 2024, io ti dico, sì, c'è tempo, c'è tempo, c'è un sacco di tempo, uno può valutare, io non me lo ficco in conto, però febbraio 2024, se dovessi essere messo, se avessi, cioè, mi sono già risolto, due, quei due o tre cazzi, che mi devo risolvere, con il lavoro nuovo, magari, magari un pensiero, ce lo faccio, perché comunque, quei volumi di Batman, delle robe da recuperare, sono veramente indietro, e questa potrebbe essere, un'opportunità, esatto, questa, questa è, proprio ne parlano, bene bene, 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 va bene, comunque, così, piccola nota a margine, hai rallentato parecchio, cioè, addirittura, qua siamo arrivati, ad un cartonato della Lion, che ce l'hai, ma non l'hai mai letto, ma questa è roba da Cesco, però, da roba da Cesco, sì, perché, è andato a finire, con questo qua, perché di solito, i cartonati qui di Batman, li ho letto tutti, ma infatti, penso sia l'unico, assoluto, che ancora non abbia, ancora letto, è andato a finire con, ma perché per quello, uno non deve farle, queste robe qua, io, io certe volte ci cado, tipo così ci sono caduto, tanto è autoconclusivo, dico, poi lo leggo, magari mi leggo, la roba in continente, poi lo leggo, e poi lo leggo, poi arrivando sempre, roba in settimana, e poi lo leggo, si è trasformato in anni, da mesi, e da giorni, in esi anni, guarda, non mi dici niente di nuovo, è l'unico avviso, che mi manca, infatti, adesso, ma guarda, mi capitava anche con Topolino, per esempio, Topolino, ah tanto una settimana, sono storiella, poi, se ti giri un attimo, ce ne hai quattro nel comodino, non li hai letti, e allora le robe, bisogna leggerle, subito, io di Batman, effettivamente, da leggere, mi manca solo quello, adesso me l'hai ricordato, cerco di mettermi, cerco di leggerlo così, nella prossima anteprima, perché poi per me, queste robe così lunghe, verranno riproposte, poi nelle prossime anteprima, vi so dire qualcosa, di più personale, cerco di scassarmelo, facciamo così, vabbè, vedremo come va a finire, vi terremo aggiornati, Batman di Azzarello e Risso, Dizzy Deluxe, 31 euro di cartonata ad ottobre, tutte le storie di Batman, firmate dalla premiata coppia, che con 100 bullets, ha rivoluzionato il fumetto, Mark, ci dici questa cosa qua, questa roba qua, non lo conosci, ho letto un'opera di Azzarello, non ho letto un'opera di Azzarello, che era di, Azzarello è quello che ha fatto Joker, tu dici, sì esatto, esatto, e lui, il fumetto Joker, l'autoconfusione, il fumetto Joker, sì sì, e poi avevo detto, ancora sono legata a due facce, che adesso non mi sfugge il titolo, sì, sono sicuramente, beh, bravissimo, è uno dei migliori, ma qua io per discorso di grano, non mi ci butto, non mi ci butto, e in forse, è in forse, è un altro deluxe, sono altri 30 euro, e ottobre, e quindi, qua decido di stare un attimo calmo, secondo me, è interessante questa roba qua, è interessante, no no, ma sicuramente è interessante, perché la roba che abbiamo letto, di loro c'è interessante, e che l'anteprima, è carica, allora, tu dici, tu dici che devo stare calmo, perché aggiungerò roba più avanti, eh, c'è della roba, soprattutto anche sui manga, e quindi, dai va bene, per ora mi faccio i cazzi miei, io me lo stavo, e mettilo, smettilo con un punto interrogativo, queste qui sono robe, che quando man mano che esce la roba, se in quel momento, dove sei sei, lo vedi, e sei disposto a dire, ma sai cosa, alla fine mi sono avanzati 30 euro, 31 euro, sai cosa, me lo compro, va bene dai dai, mettiamola sul po' e vediamo, va bene, va bene, lanterna verde, freccia verde, tantissima roba cazzo, peccato che, DC Library, quindi se lo tengono, 36 euro di cartonata d'ottobre, io sai che mi pisciavo, questa roba qua, tantissima roba, addirittura una pietra a miliardi, su questo, su questo, non conosco, proprio approfondità, ma a parte al giorno, freccia verde, a parte le serie tv, qualcosa che ho letto, sui fumetti, come personaggio, non mi è approfondito, proprio il personaggio, singolo di cartonata, ma io che ti devo dire, c'è la fine, c'è poco da dire, io mi casavo come un pazzo, con entrambi i personaggi, e capisci che il team up, cioè, loro che si scannavano, perché no, ma sei un vecchio di merda, no, sei un coglione, un tamarro del cazzo, e andavano avanti così, era bello, era bello, era proprio bello, 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 i due compiranno un lungo viaggio, nell'entroterra americana, l'obiettivo è ristabilire un contatto tra la lanterna verde del settore 2814, e il suo genere, ti devo dire che io mi pisciavo, c'era da pisciare, però vabbè, sono anche gusti, poi tra l'altro qua parliamo di storie degli anni 60, insomma, bisogna anche capire, parliamo di una lanterna verde di qualche anno fa, ecco, una lanterna verde forse un po' più, un po' più vintage, un po' più particolare, quindi deve piacere, il lanternino non è per tutti, però, secondo me, era un team up molto azzeccato, ci stavano un casino assieme, detto questo, sono 36 euro ad ottobre, e seguo il consiglio di Beppe, la lasciamo sul po', ah no, tanto i DC Library, niente, proprio risolta così, perché c'ha la sgommata, se la possono ottenere, la guerra degli dei, 32 euro ad ottobre, che minchia è stata, io la prendo, la prendi? Sì, se la prendo per uno degli eventi di DC, che io pian piano, mi li colleziono, man mano che escono, se mi mancano, io li prendo, la guerra degli dei, a quanto pare, a parte che l'ho letto anche qua, ma me l'avevano già detto, non mi ricordo che in passato, è una delle robe fighe, dell'universo di DC, che erano successe, addirittura, negli anni, negli anni, negli anni 80, 90, e allora la prendo, e boh, cioè, praticamente qua, addirittura lo descrivono come fumetto epico, divenuto un po' più classico, intammontabile della DC, ma io ne avevo già sentito parlare prima, e allora ho detto, io lo prendo, e boh, e niente, questa è stata la scelta, me lo metto in collezione questo, non lo so, non lo so, che cazzo, non prendo la roba figa di Batman, e mi metto a prendere questo, sono sempre 30 euro d'ottobre, sì, questa qui più che altro è per, perché è legata alla continuity, visto che nella continuity inizia a avere veramente, un botto di robe, mi mancano ancora dei tasselli, preferisco magari ancora concentrarmi, se devo fare un acquisto, me la concentro ancora sulla, continuiti, no, cioè tipo magari, le crisi, eccetera, eccetera, e allora mi prendo anche questo, come vedi, questo qui dopo la crisi, perché la crisi dell'86, qua addirittura si parla, che inizia già, su Wonder Woman dell'87, e poi c'è la guerra del 91, quindi vabbè, ma io invece basta, se mi è preso lo sconforto, me ne sbatto il cazzo, no, che è il primo discorso, di che cosa uno vuole prima, nel senso che uno dice, ma a me degli eventi, avere la roba, di sì, magari più importante, non me ne frega un cazzo, vado sui personaggi singoli, non lo posso dire, che cosa vorrei, perché è bannabile, va bene, comunque sono 32 euro, ad ottobre, per il buon Beppe, io la metto, poi vediamo anche questa, cioè, dire Batman no, questo sì, mi sembra veramente da cani, quindi se non prendo Batman, non prendo manco questo, vediamo, ci rifletterò poi, direttamente ad ottobre, adesso non metto più niente, nel conto, affanculo, Justice Society America, volume 1, la nuova età dell'oro, 23 euro di cartonata novembre, Beppe si piscia, esatto, esatto, perché lo scrive Johnson, lo sta scrivendo Johnson, è nuova, è nuova, impressionante, è nuova ragazzi, impressionante, a me la Justice Society America, mi piace, appena ho visto che, praticamente, proprio la nuova run, scritta da Johnson, non ci ho pensato neanche, un attimo, e l'ho presa, io ho detto la ordina, e boh, Johnson di solito, è difficile che sbagli, e io invece me ne sbatto il cazzo, ma sì, no, Johnson mio padre, adesso, lo sai perfettamente, l'ho detto più volte in questi video, come la penso su Johnson, però, per lo stesso principio, del volume, di cui prima, andata così, basta, ve lo tenete, non c'ho voglia, va bene, Superman volume 1, colui che cadde, Superman di Johnson, volume 4, gli uomini del domani, andata così, abbastanza, tendenzialmente, questi qui sono le raccolte, tipo il primo, e la DC de Verde, di rinascita, esatto, di rinascita, e va bene, e va bene, e, per lo stesso principio, abbiamo il corpo, delle Lanterne Verde, Caccia Agli Enelli, e DC Classic, Lanterna Verde, 4, addirittura, Queste sono belle, e quelle di DC Classic, sì, io solo che, già facendo Batman e Superman, ho dovuto fare le scelte, se no Lanterna, beh, se io non sapevo, nemmeno che era iniziato, Lanterna Verde, siamo al 4, penso, della Silver Age, addirittura, c'è chi parla, molto molto bene, però, lì, a questione di scelte, si mette a fare tutti i classic, non riesco più, allora sto facendo Superman e Batman, perché sono belli, non costano neanche tantissimo, ed escono una volta all'anno, alla fine sono una trentina d'euro, sono dei bei cartonati sovracopertati, sono belli, sono proprio belli, guarda, io in realtà, Lanterna Verde, mi caserei anche, non fosse che non sapevo, della loro esistenza, e quindi, non li ho mai iniziati, e mo siamo al quarto, siamo al quarto, quindi, suppongo che ne riparleremo, in un'altra vita, dovessi mai avere dei soldi, che mi avanzano, non so, ne riparliamo, eventualmente, poi vediamo cosa succede, qua, sempre da fare i recuperi, c'è Justice League International, agli estremisti, Batman Leggende Metropolitane, volume 4, team up, bestiale, esatto, pazzesco, stavo cercando di leggere qualcosa, ma se non hai niente da dire, tu non ho niente da dire io, andato a... no, 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 questa roba qua, non sono cose che ho saltato, cioè, che avevo saltato, frega un cazzo, lui ha tutto, no, ma io ce l'ho, c'ho tutto quanto, e poi erano robe che ha saltato, pazzesco, va bene, ma si, sbatti il cazzo, DC Omnibus, Justice League, di Geoff Jones, volume 1, 100 bombe, di cartonato sovracopertato 2024, eeeh, eeeh, questa ce l'ho, spillati, ehi, io questa invece ce l'avevo, ma come sai, avevo venduto tutto, sì, esatto, esatto, come sai avevo venduto tutto, comunque non mi butterò sull'Omnibus, perché, mi batto altamente, altamente il cazzo, però, sai che, mica, c'ho al pensiero di aver venduto, quasi tutta New 50, un po' ci sto male, un giorno chissà, però, nel caso dovessi recuperarla, cioè mi recupero palesemente i cofanetti, cioè, non, non, non mi butterei sicuramente sugli Omnibus, per sta roba qua, però, vabbè ragazzi, era comunque, erano bei tempi, un'altra vita, cazzo, un'altra vita, se uno volesse buttarsi, potrebbe anche non essere mani, in realtà, sempre se uno ha voglia di spendere 100 bombe di Omnibus, è perché, assolutamente, io, capisco perfettamente, la voglia di boicottarli, ha anche questi, volumi di questo tipo qua, che è, sacro santa, DC Omnibus, Batman, Detective Comics, di Peter J. Tomasi, 100 bombe, a febbraio 2024, che ci dici? questo qui è, sono tutti, absoluto di roba, che erano ispillata, io ce l'ho, io ce l'ho, ce l'ho, esatto, e parla della morte, ma ce l'hai anche tu, è della morte di Alfred, c'è proprio il cerco di sole di Tomasi, dove tratta la morte di Alfred, e Thomas che attacca, il papà di Batman che attacca Gotham, fondamentalmente, e, è bello, perché c'è questo colpo di scena, che io non sapevo, a parte che adesso facendo uno spoiler gigante, magari, c'è gente che ascolta, che non sa che, che Alfred, crepa, però si è, spoiler, tanto, eh, però è, è quello, se ne batte il cazzo lui, troppa la bomba, e poi se ne batte i coglioni, quando continuano a vivere come prima, va bene, tanto lui ce l'ha, la gialetta, va bene, va bene ragazzi, ma sicuramente, andiamo a vedere, Detective Comics del 37, non penso proprio di avercela, Detective Comics del 37, il 37 è la data di nascita del, 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 della testata in realtà, poi quasi, i numeri sono 994, 1016, ah hai ragione, vabbè, spero non ti incazzare, no, fa fuori di testa, va bene, sì, e poi, 2011, se roba del 2011, ce l'ho per forza, rip del 2020, sì, cazzato come i mostri, va bene, non c'è problema, andata palesemente così, Dead Boy Detectives Vol. 1, Fantasmi in Los Angeles, 17 euro, di brossurata novembre, andata così, legata a Selma Universe, sì, ma tanto è un brossurato, quindi può essere anche legata a Gesù Cristo Universe, se la tengo, Gesù Cristo Universe è bello, vero, ma ci andrebbe, se ci pensi, fare la Bibbia a fumetti, crisi sulle terre del Golgotha, secondo me, potrebbe essere, Golgotha Chronicles, esatto, va bene, Scarpet volume 4, la rabbia in culo, 16 euro di brossurata all'ottobre, se la tengo, anche questa, e boh, bestiale, finita di sì, c'è il solda, ma da prende, finita di sì, boh, non mi hai fatto la roba interessante, non me l'hai fatta prendere, il resto erano tutte cagate, ciscane, va bene, dai, non c'è problema, e si passa alla parte Disney, insospettabilmente, abbiamo, 1, 2, 3, 4 settimanali di Topolino, l'amico delle guardie, abbiamo una variant per i 10 anni di panini Disney, sì, sì, per la 3541, ora, noi prenderemo, insomma, tutto in abbonamento, ma, la variant no, e quindi, se io solo riuscissi a leggere 7,50 euro, 7,50 euro a testa, eh, poi conta che c'è anche quella roba sotto, che, la statua, allora, Franco Bollo, ve lo potete anche girare nel culo, la statua la voglio, quindi, 14 euro me li butto, eh, e io, il Franco Bollo, mi sa che lo prendo, eh, boh, quindi per me, perché ce ne sono già altri, quindi per te entrambe, eh, sì, 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 per quello che io sto andando qui, ma, Luis Grana, Luis Grana, Franco Bolli, che cazzo te ne fai dei Franco Bolli, va bene, cioè, è un Franco Bolli in metallo, in realtà, ma, sì, sì, poi così senti di più la texture, quando te lo giri nel culo, esatto, esatto, va bene, va bene, no, sì, sono abbastanza contento per la variant, poi vuoi mettere la statuina di Steamboat Willie, ci sta, quindi assolutamente sì, eh, vabbè, ragazzi, dopo lì, no, io penso non ci sia nient'altro da dire, e poi c'è sta roba qua che mi hanno rotto il cazzo, perché per la prima volta i supereroi Marvel incontrano i leggendari personaggi Disney, è quello che mi dicevi l'altro giorno, e, e, 12 imperdivi di stampe da collezione e tiratura limitata per celebrare i cent'anni, solo che, 1, 2, 3, e capito, sono 4, capito, sono 4 per 3, cioè, porca puttana, no, in realtà, ogni numero ne ha 4, ah, vabbè, ok, è già più semplice, ogni numero ne ha 4, è già più semplice, è già più semplice, è già più semplice, diciamo che io e te dovremmo comprarci praticamente, 3, 4, eh, sì, di più, perché anche i numeri per Steamboat Willie sono 4 numeri doppi più una variant, praticamente, ah, sì, 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 e vabbè, guarda, per queste ci penso ancora, tanto quando è, le vedi magari, le vedi, le vedi lì esposte, vediamo, ci pensiamo, ci pensiamo, perché ce ne arriva solo uno in, in abbonamento, vabbè, nel senso, tu li apri, io li leggo dall'app, li tengo chiusi, tu li apri però, sì, sì, perché li leggo ogni settimana, quindi, in linea di massima, te ne devi comprare solo, cioè, uno in meno, o no, no, a te ti arrivano, li apri, tutti ce le hai, che problemi, tu non li devi comprare doppi, no, no, ma non sono dentro, io ho già aperto quello del 16 agosto, non ci sono dentro, ma allora qual è il problema, scusa, non ho capito, perché non c'è, perché a noi non ce le mandano, no, a noi non ce le mandano, io ho il mio, l'ho aperto di 3534, l'ho letto, non c'era la, perché, ma guarda, ma c'è scritto, perché, questo è sempre speedrun, questo è sempre il menu di Death Stranding, solo con Topolino in fumetteria e panini.it, esatto, quindi abbonamento, a parte che l'abbonamento è su panini.it, mi avrebbe voglia di prendervi a schiaffi, però in edicola non vale, solo in fumetteria e panini.it, esatto, io ho sentito Andrea, e la prossima settimana arriva, eh, va bim, dai, va bim, dai, qualcosa combineremo, vediamo, ci pensiamo, e qua, e qua, e qua si parte, e qua si parte, Pick Up Omnibus Volume 1, edizione definitiva della saga di Pick Up, 79, bomba ad ottobre, ci siamo, per forza, volume 1, per forza, volume 1, me ne frega un cazzo, per forza, si prende, si prende, sei un coglione, capisci un cazzo, mi tengo l'alto, mi tengo l'alto, ma l'altra cosa, l'altra cosa, Pick Up Giant, sulla carta igienica, li tieni? però non lo vuoi di partire, assoluto, non ce lo voglio, vai a fare in cura, compri anche la merda, 100 euro di, le terre sugli dei, Gesù Cristo, quella lì ha fatto la storia, eh, Pick Up non ha fatto la storia, vero? ma te lo già, quella mi manca, compri la merda, guarda, è terra infinita, non ce lo voglio, non ce lo voglio, c'è anche Bersa, ti compri anche, ti fanno lo spin off, della saga di Ponzio Pilato, lo compri, Pick Up 9, va bene, no ragazzi, Pick Up va preso per forza, perché è troppo bello, Pick Up prendetelo subito, prendetelo subito, e io sono molto contento dell'Omnibus, c'è da dire una roba però, possiamo dire una roba, dobbiamo dirla, questa cosa qua, dobbiamo dirla, c'è un velo di ipocrisia in tutto ciò, perché, poco prima che finisse, Ratman gigante, hanno annunciato gli Omnibus di Ortolani, gli abbiamo solo dato del merda, no, ma avete rotto il cazzo, questi Omnibus, basta, non è neanche finita l'altra, non li prendiamo bestiale, poi fanno l'Omnibus di Pick Up subito, però, c'è da dire, c'è un paio di differenze, Pick Up a Giant, era stampato su carta peggiore, primo, secondo, Pick Up a Giant, non era raccolto in cofanetti, Ratman gigante sì, terzo, sono passati, una decina d'anni, tra Pick Up a Giant e quest'Omnibus, Ratman gigante non ha manco aspettato che finisse prima di presentare gli Omnibus in cofanettati, quindi, dai, ci sono le attenuanti, possiamo dire che ci sono le attenuanti, ok? Diciamo le cose come stanno, lo prendo assolutamente, non c'è poco bisogno di dire, beh, i disegni sono belli, le storie sono belle, ti deve piacere il paperinic, chiaramente, però, raga, dai, per favore, per favore, compriamo anche la merda, come in su un cosa, basta, ancora, e no, e no, 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 c'è ancora un progetto che dovrà, dovranno svelarci, minchia, mi vogliono rovinare, mi vogliono rovinare, Pick Up a Trauma, una nuova edizione per una delle storie più amate di Pick Up a 16 euro di cartonato a novembre, preso, subito, ma questo qui anch'io, eh, sarà meglio, sarà meglio, compri, veramente, l'immondizia la compri, Pick Up non lo compri, sarebbe, ma ce l'ho già, va bene, Pick Up è il mistero del ragno, 12 euro di cartonato a novembre, lo prendo, assolutamente, chiaro, forse, e tu lo prendi? Sì, 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 eh, bravo, The Best of Dawn Rosa Artist Edition, allora, 69 euro di cartonato a novembre, bisogna capire da sta roba qua, perché The Best of Dawn Rosa, poi però lo censuriamo, che i neri non ce li mettiamo, o come funziona, questa cosa qua? non lo so, lì sai chi è l'esperto di tutto questo discorso qua? Cesco che ha capito, eh, Cesco che i video non li guarda, e quindi non commenta, a parte che sto video bisogna vedere se riesce, però, eh, è da parlarne con lui, perché lui ne parlava con Fumettaro, e si parlava di vari ordini prima che cessurasse, o che smettesse la pubblicazione, sì, e quindi bisogna capire quella roba lì, come sarà stampato questo, e boh, se tanto mi da tanto, se tanto mi da tanto, ma poi scusami, cioè Dawn Rosa aveva detto, basta, io allora non pubblico più un cazzo, e poi qua facciamo The Best of Dawn Rosa, e boh, magari qua, vabbè, bisogna informarsi, bisogna informarsi, bisogna informarsi, perché sicuramente potrebbe essere una roba interessante, sì, ho capito, però se poi tanto è censurata, no, girano le scatole, vabbè, scopriremo, sicuramente andando avanti, se qualcuno ha delle info, se Cesco dovesse mai vedere uno dei miei video, per sbaglio, che commenti qua sotto, la numero uno di Paperon De Paperoni, l'abbiamo chiamata a gran voce, la mitica numero uno di Paperone, con una litografia di Dodo del Bondo Rosa, 25 euro, 25 euro, ma qui, l'accoglitore con litografia, moneta, in titratura limitata, non ho ordinata, questa l'ho ordinata, ma sì, non voleva, ma sì, assolutamente, ci sta 25 euro a testa, io direi che si piglia, vuoi non, vuoi non, tributare, questa cosa, io direi che, che ci sta, che ci sta, eeeh, oh, no, quanta euro di box con fumetto, e anche Gesù Cristo dentro, non li prendo, 25 euro solo la moneta, la prendo, vero? Sì, esatto, infatti ho preso questo, infatti sì, piccio, va bene, non c'è problema, come ben sanno tutti gli appassionati del numero uno, e il mitico Dime, il primo guadagno di giovanissimo Paperone, quando faceva l'ustracazzi a Glasgow, amata, coccolata, bramata da molti, persa e ritrovata mille volte, più che una moneta, e una leggenda, famoso decino, arriva ora, in questa esclusiva, riproduzione da collezione, ci pisciamo, ci pisciamo decisamente, Riturano ma sia 25 euro, esatto, Don Rosa calendario 2024, anche no, soprattutto incredibile Don Rosa, no, io non faccio più un cazzo, perché mi hanno censurato, abbiamo sempre fatto questa anteprima di Don Rosa, esatto, no, la censura, la cultura, calendario Don Rosa 2024, va bene, va bene ragazzi, va bene, c'è il problema, tu non ti stai gasando qua, col calendario della Bainotti, no, col calendario no, solo se la di Evacante, col calendario di Frate Indovino qua, esatto, solo se la di Evacante, quello si, quello l'abbiamo preso subito, va bene, direi che il calendario di Don Rosa si può anche saltare, Foglie Rosse, ultimo atto, non so cosa sia, neanch'io, è un ultimo atto addirittura, e non, non so neanch'io cosa sia, la storia disegnata da Claudio Sciarrone, che è tuo compaesano, palesemente, colpi di scena, interviste all'autore, bisogna, approfondire, capire il caso qua, gli altri, bisogna capire di che cazzo stiamo parlando, e quanti ce ne sono prima, evidentemente, perché non, non so, non so e non mi ricordo, lo scrigno, tops stories, tanta roba, eh, quelli sono belli, sono belli, sono belli, però minchia, tutta l'ottobre, tutta l'ottobre, eh, tu hai detto, tutta l'ottobre, per cosa ho detto qua, bisogna capire, un po' che cazzo sono girato, eh, raga, 59,90 euro ad ottobre, i volumi con l'avventura di tops the tops, l'antenato di Topolino, impegnato, guarda che a me le storie di tops, vedi, sono belle, molto belle, c'è pure la bussola, che poi, che poi scusa, cioè, è chiaro a tutti, penso che non ci voglia essere, perché stanno uscendo tutto questo, dopo l'ottobre, novembre, è abbastanza chiaro, vabbè ragazzi, c'è Luca, abbiamo capito, c'è Luca caricando tutto sugli, sui grandi, tavoloni, hanno tutta la roba in uscita per la fiera, e uno, quando è di qua, c'è il campanetto di tops, stories bestiali, e questo qui è bello, però questo qui, è una di quelle robe che, ho messo il punto del loro interrogativo, ed è, palesemente un acquisto, che se, quando vai a look, cioè, non la prendi in fumetteria, giri per la fiera, e lo vedi lì, e dici, ma sai che ho 60 euro da buttare, mentre sei in fiera, ti fai acquisto fiera, te lo porti a casa. se magari tiri anche giù un po' il prezzo, però, perché? se non lo prendi, lo prendi in panini, lo prendi in un'altra parte, sì, se lo prendi in panini, non tirano un cazzo, magari, ce ne prendiamo due, ce ne prendiamo due, che dobbiamo lavorare. Guarda, io non lo metto in conto, ma per un semplice fatto, no, ma ti spiego, ti spiego, lo voglio, lo voglio e lo prenderò, 100%, ma non lo metto in conto, per il semplice fatto, che questi qua, poi rimangono disponibili in una vita, perché lo abbiamo già visto con altri, l'abbiamo già visto con quello, dei gialli, del topo, del topo detective, lo abbiamo già visto con quelli bonelli, che sono, il 90% degli iscritti, questi bonelli c'è ancora, quindi, in linea di massima, penso che, non sto a preordinarlo, ma appunto, c'è la volta che lo vedo in giro, lo vedo su Amazon, Emigaso, lo piglio. Esatto, io ho detto fiera, ma effettivamente, la volta che lo metti in giro, anche la Mondador, che cazzo ne so in giro, si, si, no, no, sì, assolutamente, ma lo prenderò, ve lo dico, cioè lo prendo al 100%, però è inutile, una roba che, è inutile preordinare, ma 100% prima o poi lo piglio, assolutamente, quindi, non so se ficcarmela lo stesso nel conto, a questo punto, però non essendo, assicurazione al 100%, ma non in questi momenti, ma in questi momenti. boh, è uguale, è uguale, diciamo che ficchiamo, generalmente, il conto sarebbe il conto dei preordini di quest'anteprima, no, lo so nemmeno io, fateci sapere, cosa dobbiamo ficcare nel conto, tutto quello che ci interessa, o solo quello che siamo sicuri di preordinare, capiamo, proviamo, facciamo questa domanda, facciamo questa domanda, e poi appunto, le top stories, 12 euro ricartonato a novembre, Sir Tops del Tops, il coraggioso antenno di Topolino, in questo volume, indagherà sui tre grandi misteri, su tre grandi misteri, compiendo viaggi bestiali, negli angoli più remoti, serie imprescindibili 12, che però sarà ben compreso nel cofanetto di sopra, voglio sperare di sì, io questo qui l'ho dato, ho detto dai, i figurati se non lo buttano, cioè, le top stories 1, 4, eh però questa è un'altra roba, perché quello là, le top stories 1, 4, sono quattro copertine, e poi c'è questo qua, che è una roba a parte, sì, sarà, effettivamente, io, potrebbe essere una roba a parte, 12 euro, ma perché dovete fare così, cazzo? eh, chi sa perché devono fare così, effettivamente, poi inedita, se siete in pericolazione, boh, questo qui è da prendere, se non c'è dentro quel cofanetto, lì è da prendere, eh, chiaro, sì, però allora a questo punto che fai, ti fichi tutto nel conto, perché, cioè, sì, ma questo qui, sì, questo qui 12 euro, che per me anche lì, vale il discorso di prima, cioè, la prima volta che si ingira lo becchio, 12 euro, non lo prendi, boh, questo anteprima mi sta lasciando perplesso, sono un po' confuso, sul da farsi, onestamente, il tacuino di Giorgio Cavazzano, io l'ho subito, quando l'ho letto, ho detto, questo tu lo compravi, ah, ah, quanto mi ha rotto il cazzo, sto uomo, 29,90 euro di cartonata d'ottobre, un viaggio alla scoperta, di uno dei più grandi disegnatori di, ma tu hai già tutto tanto, tutto in cascina di cazzo, certo, tutto in cascina, gli ho comprato anche, il Cavazzano gli ho pagato io, il mutuo gli ho pagato io, praticamente, il Cavazzano, ma, il tacuino di Cavazzano, non lo so, ma ci può anche stare come idea, però, forse è andata così, forse è andata così, anche proprio perché c'è scritto Cavazzano sopra, un saluto, un saluto al buon Giorgio, le carte d'autore Disney, qua Beppe Sborra, e sono delle belle carte, che cosa quell'avevo messo, a parte che, aspetta, in realtà pensavo fossero delle carte, invece in realtà è un, è un volume che raccoglie i bozzetti netti, delle carte da gioco, quindi a me dei bozzetti, di come hanno fatto le carte, cioè, le carte mi piacciono, ma come hanno fatto le carte, non mi ricordano, frega un cazzo, no, lui prende solo, prende solo la storia degli dei, Dio fa, di stelle, quella lì, tu pigli per il culo, ma quella roba è bestiale, ma la uso per pulirmi il culo, la uso, eh, boh, lì ha deciso, che la storia degli dei, ha rotto i coglioni, invece di dire cazzate, viaggio nella luna, questo è da prendere, 25 euro d'ottobre, lo prendo, subito, sovracopertato, un'edizione deluxe, che ripropone l'avventura, in due tempi, orchestrata da Bruno e Enna, e magistralmente, disegnata da Pastrovicchio, viaggio nella luna, trasposizione a fumetti, del capolavoro cinematografico, Le Voyage dans la Lune, dal regista francese, Georges Méliès, all'interno della storia colori, con l'aggiunta di alcune parti, inedite, la tavola in bianco e nero, interviste agli autori, raga, sto prendendo subito, non ci penso due secondi, ma questo qui si prende, questo qui si prende, avevo già, me l'avevo già, abbastanza convinto, valesemente questa cosa qua, 100%, ma 100%, guarda che bellezza, che bellezza, e va bene, Topolino presenta, La Strada, ah, questi sono i fratelli, delle case, delle case, delle popo, esatto, 50 bomba novembre, ma cos'è l'aspetto? Perché l'omaggio a Federico Fellini, capisci che tra 8 novembre, ce ne esci vivo, non si ne può uscire, no, ma infatti uno non può, non può ordinare tutto, oggettivamente, esatto, palesemente non può ordinare tutto, e finisce malissimo, con Topolino mini, gamba di legno, versione 30, che interpreta una chiave disegnana, che dire, sicuramente fichissimo, però cazzo, 50 bombe, se io per il momento, l'ho messa molto in stand by, sul poi vediamo, ma anche perché, a parte che c'è sempre cavazzano di mezzo, ma penso, capisci che sono 64 pagine, 50 euro, e se, perché stavano in viso, dei micchie lussuose, dell'alto, raga, non lo so, onestamente non lo so, Topolino ed età beta, l'uomo del 2000, questo, questo è interessante, questo è interessante, 35 bombe all'ottobre, la grande raccolta cronologica, dedicata a RCCD Godfrey, e, sai che, questo è interessante, e io ci penserei, molto bene, sì, ma io tutte queste robe qua, non lo ho, scusa priori, in realtà, io in realtà, dovrei andare, quella giornata di Luca, nello stand dei panini, e boh, panini Disney, e mi faccio prendere, dagli istinti, o andare in giro, per la fiera in generale, sulle bancarelle, che ci sono, ci pensiamo, mettiamola sul, mettiamola sul, poi vediamo, ma questo sarebbe, imprescindibile, secondo me, i gialli del combi Sahari, e Topalbano, ce l'ho già, ce l'ho già Topalbano, e ma io ce l'ho già, bravissimo, vedi che ho detto, vedi ce l'ho già, non ti incazzare, Topalbano ce l'ho, Topalbano ce l'ho, mi ero già, Topalbano e, cos'era, l'anfora di Carrisi, che me cazzo era, ce l'ho, ce l'ho, i gialli del commissario Topalbano, e altre avventure ispirati, ai romanzi, adesso ovviamente, come minimo, sarà, sarà una versione più completa, di quello che io, sicuramente, penso, ovviamente, indovina chi c'è di mezzo, Cavazzano, è addirittura, Cavazzano e Mottura, però ce l'ho già, ce l'ho già, Topalbano era, Topalbano era già, di Carridi, una roba di questo tipo, era particolare, ce l'ho, ce l'ho assolutamente, mi ricordo anche, proprio questa copertina, nello specifico, ce l'ho, vediamo, vediamo, viene, non la, vediamo se, nella descrizione, viene nominata, non la vedo, è andata così, vabbè, la gialla di Carridi, eccolo lì, eccolo lì, ha visto, però Topolino è lo zia d'America, chissà se questo c'è un pezzo in più, che mi manca, che nel caso, è andata così palesemente, perché, ne posso avere Topalbano, in doppia copia, che Cristo, però, vabbè, eventualmente lo scopriremo, più avanti, Zio Paperone, La Bontà Natalizia, e altre storie, 16 euro di cartonatino a novembre, non mi interessa particolarmente, onestamente, no, non credo per il momento, neanche a me, cioè, l'ho messo in forza, anche questo, però, non, non mi ispiro, Frank and Winnie, il fumetto, The Story of the Movie in Comics, Disney, Disney Dark, volume 1, Disney Dark, nuova collana, è una cosa che mi fanno, il fumetto, la storia del film, che, boh, non lo so, e poi magari, non so perché, non mi ispira a sta roba qua, non mi ispirano, parte che secondo me, tu non hai mai anche visto il film, che cacchi cazzo, senza sapere di cosa si tratta, così a naso, no, il film non l'ho visto, non l'ho visto, però magari mi guardo per il film, capito, se in origine è un film, capisci, poi che loro mi facciano, non mi facciano per la supposizione del film a fumetti, non lo so, se per questo in origine era un film, e poi è diventato un cartone, vabbè, comunque, sono 8 euro di cartonata d'ottobre, parte una nuova, parte proprio una nuova, una nuova collana, Disney Dark, io lo prendo, 8 euro, io me lo prendo, Vigaso, bravo, si fa caldo il boy, va bene, piccola carrellata, abbiamo grandi autori, e Topolino, il segreto dei sassi, altre avventure, che devo dire, che deve essere bestiale, sicuramente, grandi classici Disney, Almanacco di Topolino, che ci siamo ampiamente girati nel culo, regolare di Paperino, regolare di Paperinic, di Zio Paperone, Disney Team, e si passa, bisogna vedere, bisogna vedere, sull'almanacco, scusa, questa piccola parenti, se per caso, in qualche fumetteria, lucca, di roba arretrata, si possono recuperare, e loro fanno, tante volte, le impellicolature, di primi 15, a prezzo bestiale, perché se ne vogliono toglione, magari ne hanno un botto, bisogna poi farsi un giro lì, se c'è l'offerta bestiale, vabbè, comunque, ci sta, ah sì sì, direi che ci sta, si passa alla parte Marvel, vediamo, dopo quanto tempo, ci abbiamo messo, che alla fine, ci siamo anche, dilungati, un'ora, no, ma come abbiamo fatto, a fare un'ora, ma non è possibile, Beppe la parziale, la parziale, ma perché qua, c'è di tutto, c'è, ancora abbiamo, siamo arrivati ancora, non ho visto un cazzo, comunque, cioè, va bene, va bene, va bene, va, non voglio più parlare, guarda, mi fai nervoso, Ultimate Invasion numero 1, il ritorno dell'ultiverso, del, porco, dell'universo Ultimate, sono 5 euro a novembre, più 7 euro di Variant, con mio fratello Miles Morales, si prende, sì, sono 12 euro a testa, dai, sì, per forza, 12 euro a testa, l'universo Ultimate, era una roba interessante, i tempi, questa svecchiatura, dell'universo Marvel, che stavano, che avevano fatto, che poi a una certa, non serviva più, avevano unificato tutto quanto, a quanto parla, adesso è il momento, di svecchiare di nuovo, al centro di tutto, non poteva che esserci, Miles Morales, quindi chissà che, ma sì ragazzi, perché ricordiamo, che l'universo Ultimate, è proprio quello, che ha dato i Natali, al nostro Miles Morales, con mia madre, Sara Pichelli, la donna della mia vita, e quindi, io devo dire, tantissima roba, ci gasiamo, qua, fanno praticamente, come i roster, prima erano SmackDown vs Raw, poi li hanno unificati, e poi, e poi li hanno ridivisi, e c'era di nuovo, la guerra dei brand, stanno facendo così, praticamente, va bene, dai, ci pisciamo, vediamo che cosa tirano fuori, gli illuminati, devono ricostituirsi, per fermare i piani, del creatore, l'avete sognato per anni, ragazzi, se lo dici tu, va bene, dai, dai, ci pisciamo, vediamo che cosa combinano, Amazing Spider-Man, 28 e 29, che cosa ha fatto, Peter Parker, com'è possibile, che lui e Norman Osborn, stiano collaborando, ci siamo, ci siamo, li usando scolare, che cazzo ha combinato, e dall'inizio, sono 30 numeri, che non sappiamo, che cazzo ha combinato, sto Cristiano, che la gente lo vede, sbocca, dice no, sei un bastardo, e, e boh, lo scopriremo adesso, lo scopriremo adesso, e ovviamente, il 29, ce l'abbiamo, con tanto di doppia variant, anche la Villain variant, del piccio di Alex Ross, quindi, facciamo un conto, sono 10 di regolari, 15, 22, 22 euro a testa, capisci, capisci, cioè perché, esce la madonna, sì, 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 io capisco perfettamente, capisco perfettamente, cioè qua, uno potrebbe vendere tutto, io, già non, mi sto trattenendo un pochino, perché sto prendendo, parecchia roba, ma no, già è minchia, vabbè, eh che cazzo gli devi dire, Alex Ross, poi Villain variant, abbiamo detto, che almeno, quelle dei ragni, le avremmo fatte, le stiamo facendo, eh che cazzo gli devi dire, eh beh, le prendiamo, le prendiamo, e finalmente, finalmente, scopriremo qualcosa in più, che c'è, questa cosa è stata bestiale, no, perché i randi, John Romita, pisciamo sotto, e poi l'hanno interrotta, dopo due numeri, e si sono messi a farsi cazzi loro, sì, poi per farlo, adesso c'è dei mattesco, la caccia perduta, poi ritorna Romita, io, mi le ammazzo, ma questa roba è veramente, devastante, va bene, Miles Morales, Spider-Man 5, sono 5 euro a testa, ad ottobre, ci picciamo, Venom 19, eh, sì, vabbè, Miles continua, con l'ennesimo evento di Carnage, insomma, vediamo un po' che cazzo, cosa combinano, Venom 19, eh, ad ottobre, andata così, Deadpool numero 3, disponibile, Villain variant con, con coso, che, va presa allora, questo qui in realtà è cosa, sembra Octopus, quindi, è Octopus, sì, che cazzo fanno, ma perché la mettono a Deadpool, c'è un cazzo dentro, vabbè, cioè, non lo sto confondendo, è palesemente Octopus, a me sembra Octopus, chiaramente, c'è proprio, vabbè, sì, è Octopus, c'è anche il taglio di capelli, ma sì, è luce, non sei euro a testa, ma perché, devono fare un suo Deadpool, vedremo, sì, c'è da prendere, questo qui appena arriva, tac, la prendi, la metti in cascina, con i Villain, in cascina, va bene, va bene, andiamo avanti, non commentiamo, Avengers 2, Invincibile Iron Man 7, incredibile Hulk numero 2, con tanto di Villain Variant, cosa combina Hulk? La madre degli orrori esige la sua libertà, capito? Cazzata che mi mostro, capito, va bene, Thor 36, con Villain Variant di Loki, Captain America numero 5, anche qua Villain Variant, ah, qua ti stai pisciando? Ma la di realtà, sì, la prendo, però le Variant di Villain Variant di Cap, non le sto prendendo, ho preso solo Tescherosso, ho preso solo Tescherosso, proprio perché il più iconico, ci sta, però di Villain Variant, ho voluto far solo Spiderman, perché ce n'erano veramente, un puttana, sì, gli eroi l'avevo fatta completa, c'erano tipo 40 Variant della Villain, hanno detto, faccio, faccio solo quelle legate a, a ragno, ma sì, hai fatto, hai fatto più che bene, hai fatto più che bene, Fantastici 4.8, con Galactus, eh, questo interesse, pazzo Galactus, sputtaneva, ti stai buttando per 3 euro, eh, io stai per 3 euro, sì, perché Galactus che fai, minchia, sei tosto, ma a me è quasi che mi avete rotto il cazzo, invece, cazzo, carrellate di mutanti, X-Men 25, Immortal X-Men 13, Wolverine 37, X-Force 38, Villa Invariant con il buon Magneto, New Mutants, X-Men Before the Fall, X-Men Gala Infernale, e si passa, poi, ad altro, oltre ai mutanti, Daredevil numero 13 a novembre, Marvel Integrale per il recuperino, di Brossurato, Didi Matteis, ad ottobre, X-Men 58, ad ottobre, Jason Aaron, eh, Thor di Jason Aaron, ad ottobre, Marvel Giant Size Edition, Marvel's annotato, 70 bombe, con Sleep Case, a novembre, che cazzo è sta roba qua, con Alex Ross, a parentesi, sempre in mezzo, in griglioni, pure lui, tutti, ma proprio tutti, dietro le quinte, di una delle opere più belle, la strada del fumetto, i Marvel's sarebbero, però, 70 euro, io sai che questo, questo è rimasto, un tipo, quando ho visto, c'è stato un quarto d'ora a guardare, sempre questa novembre, ragazzi, combinazioni, sai quando? Il 2, il 3 novembre, immagino, eh, 70 euro, sono tanti, massimo, così a naso direi che se lo tengono, io lo metto a fare il prerogativo, e poi, io vi metto, ve lo metto in testa, siete rotti i coglioni, troppa roba, troppa roba, va bene, Spider-Man e Hulk di Gar Tennis, eh, subito, io questo lo ho ordinato, sì, 20 euro, 20 euro di cartonata ad ottobre, celebriamo l'arrivo di Gar Tennis a Luca Comics, con la riproposta di due gemme, del Marvel del passato, l'arrivo del migliaio, in l'arrivo del migliaio, Spider-Man deve vedersela con un essere legato alle sue origine, in Hulk spacca, Goliath Verde, ci pisciamo, ci pisciamo, ci pisciamo, ci pisciamo, perché Gar Tennis, Gar Tennis su Spider-Man, chissà che cazzo combina, se cazzo, è roba che io non ho mai letto, non conosco, quindi, io direi, direi che c'è da pisciarsi, perché qua non va più giù, porcaccia d'altro, allora, Fury, il pacificatore, vediamo qua, Beppe, se sborra, sì, perché, perché se tu leggi, io, avendo tutta la saga del punitore, della serie Max di Ennis, questa qua, io oggi, guarda, ne parlavo un po' con Cesco al telefono, c'è proprio scritto, proprio serie Max Fury 2001, e Fury Peacemaker del 2006, che per me saranno legate, un po' al punitore, perché compare Nick Fury in quella serie lì, e quindi, mi mancherebbe questo alla fine, per renderla completa, e dopo lo prendo, a parte che poi la serie del punitore, ne avevamo già parlato, del capolavoro di Ennis, e questo sarebbe un po' il tassello mancante, un po' lo spin-off, perfetto, ed è tutto, e a me manca, perché non l'avevo, non c'era arrivata a prenderla, qua c'è tutto in un unico volume, è solo di Nick Fury, scritta da Ennis, e di da mettere in cascina, insieme alle altre robe, sembra ancora di in cascina, niente, invece me ne sbatto il cazzo, va bene, quindi sono 34 euro per Beppe, Doctor Strange volume 1, La vita di Doctor Strange, è andata abbastanza così, Ghost Rider Cosmico, questo sono io, se non riparo la moto, faccio Ghost Rider Cosmico, a novembre è andata così, io sono Iron Man, senza limiti, La Cosa, Tempo di Distruzione, Heroes Reborn, gli orei più potenti, gli orei, gli biscotti, gli orei, gli eroi più potenti d'America, qua non la stai prendendo, ma no, questa roba qua, ce l'avevo, ce l'ho, ce l'ho già, sì, ce l'ho perché, se tu vedi qua, avevano fatto uno scontro, tra gli Avengers, e quelli a sinistra, sono i superiore di sì, che non potevano mettere diritti, hanno inventato i superiore, che sono praticamente loro, c'è Wonder Woman, Flash, c'è Batman, c'è Superman, se ci si vedono, e avevo letto qualcosa, li hanno fatti scontrare, e adesso non mi ricordo neanche chi aveva vinto, sembrava quasi una commercialata, in realtà, aveva voluto fare Marvel il conto di sì, contro una roba, sembrava, sembrava, consiglio, cioè nel senso, qua c'è proprio tutto un, si riassume tutta quella run lì, in cui salgono, tra virgolette al potere, quelli ispirati alla DC, fondamentalmente, poi ritornano i vendicatori, si menano, le stiali, questo è, pazzesco, ho fatto un volume, pazzesco, impressionante, vabbè, frega un cazzo, Venom volumetra e Dark Web, incredibile, Recuperini, Captain Marvel volumetra e Ashes, sfida alla covata, Sword, l'ultima frontiera, andate così, X-Men alfiere, War College, Betsy Braddock, Captain Britain, frega un cazzo, bella, carrellata di Must Have, Thanos vince, Venom, Agente Venom, i grandi tesori Marvel, Sabretooth, caccia mortale, questo è bestiale, è questa la bestiale, gennaio 2024, gennaio 2024, effettivamente, se si può ancora pensare, per me la riproposta in qualche prossimo anteprima, sì, pensiamoci, è una storia nuova, del 2023, io però non darei per scontato di cazzi, perché storia Wolverine, Sabretooth, secondo me sono, sono robe bestiali, qualcuno è riuscito a trasformare, Victor Creed in un'arma, e l'ha puntato contro Mistika, ma Wolverine non è d'accordo, una kick anni 90, scritta, anni 90, o 2023, ci dobbiamo decidere, esatto, perché c'è scritto, Sabretooth, X-Sally, 2023, 1, barra 5, quello è l'anno di nascita della, vabbè, ti sapete che cazzo fanno? Allora, o hanno fatto tipo, aiutami a dire, coso, come Zagor, le origini, che hanno riscritto in chiave moderna, robe uscite negli anni 90, in questo caso, ma che c'è scritto, sai, il 2023, una kick anni 90, vabbè, magari hanno riproposto, sai, vabbè, Marvel Giant Size Edition, Infinity Gauntlet, 45 euro, con Sleep Case, a febbraio 2024, sai che questo è bestiale, tu ce l'avrei già, 100%, sì, ce l'ho già, c'è il cartonato, cartonato con l'evento, qua, eh, eh, qua la saga del guanto, la saga del guanto a febbraio 2024, potrebbe essere interessante, 45 euro, non sono neanche tanti, non sono neanche tanti, se uno manca, e vuole, vuole gasarsi, sì, eh, raga, raga, lo faccio, perché è una roba che, è una roba che volevo fare, sai che c'era, avevano fatto quel mega cofanettone, bestia, sì, avevano fatto quel mega cofanettone, che però costava l'anima di Cristo, questo, 45 euro con Sleep Case, onestamente, eh, mi gaso, me lo segno, con riserva, cerchiamo di capire, cerchiamo di capire, perché poi, beh, sicuramente non è completo, manca un po' di pezzi a tutta la questione, sì, sicuramente quello, quello lì, quello lì, che costava la madonna, c'era tutto, esatto, quindi, vai, è proprio l'evento, se vedi, c'è proprio l'evento, sì, infiniti, gonzole, te basta, sì, basta, che però, che però, che però, io non ci dormirei sopra, ecco, quindi io me lo segno, e poi vediamo come va a finire, Marvel Honibus, Tor di Genosanaro, un volume 100 euro, a gennaio 2024, andata così, sì, esatto, Marvel Honibus Extreme X-Men, 84 euro a dicembre, andata così, Marvel Superior Adventures, Captain Marvel, frega un cazzo, Miles Morales, strane ombre, questo qui, l'ho docchiato, perché 9,90, no, io l'ho ordinato questo, cazzo, cazzate, perché ho visto il prezzo 9,90, e io ho fatto la foto, è un brossurato, è un brossurato, però, boh, il novel, sembra volettivamente, perfetto per i fan di, di Spider-Verse, quindi io l'ho mandato la foto, io penso che, aspetterò di vederlo in fumetteria, ma lo sfoio, ok, non ci vado, è vero che sono 10 euro di merda, però non lo so, qualcosa che non mi convince, bisogna capire, Stranger Tights, vabbè, vediamo, vediamo quando arriva, vediamo un po', di che cosa stiamo parlando, carrellata di Masterworks, Fantastici 415, Capitano America 13, e si passa alla fumettanza, oltre Marvel, sto cercando di andare un po' più veloce, perché ci abbiamo già messo tantissimo, Player Zero, la nuova opera di Alessandra Lia Patanè, abbastante, la autrice di Contra Z, mia sorella, 18 euro ricartonata d'ottobre, non so, no, non me ne frega un cazzo, tu stai gasando, o ce l'hai già, ce l'ho già, no, 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 matana, madonna, color edition, si prende, per la prima volta colori in un modone, un porco, un volume unico, 30 euro ad ottobre, lo prende, io a Lucca magari, vediamo, e fare in culo te Lucca, devi fare Lucca, non ci bisogna andarci a Lucca, va boicottata Lucca, asterix e l'iris bianco, 12 euro e 90 novembre, quanti ne sono già usciti di questa, ma questa è quella nuova, inedita, no, la nuova inedita, si, la nuova avventura inedita di asterix, ho capito, però in questo formato qua, non hanno già fatti altri, questi cartonatini, si, penso che abbiamo fatto tutti quelli prima, e boh, andata così allora, si, però, inedita, cazzo, questa qui è proprio inedita in realtà, questa ci penso, vedo a Lucca, ma che gara, però ci penso, questa qua ci penso, anche se mi passa per le mani, vediamo, vediamo che succede, Stranger Things Dungeons, per Dungeons & Dragons, ma cos'è, però è un fumetto, è un manuale, ma è, cartonato, cartonato, è un fumetto, un fumetto, no, non me ne frega un cazzo, con tanto di variant, perché sono 16 euro di regolare, 18 euro di variant, un volume imperdibile, per gli amanti di asterix, non me frega un cazzo, va bene, The Boys Deluxe volume 1, Celebration Variant, oh madosca, decenni, decenni, quindi fanno le Celebration Variant, del volume 1 e del volume 2, anche del 3, anche del 3, scusa, però scusami, volume 1, 2, 3, e poi basta, si ferma lì, esatto, effettivamente, 31,38, 1,14, quanti numeri sono in totali? erano tanti, erano tanti i numeri in totali, non erano tanti, se vuoi posso cercare un attimo, te lo cerco, no, perché qua dici che contiene, fino al trentottesimo, fino al trentottesimo numero, 1,14, no, erano di più, comunque non ti dico, le Deluxe erano di più, ok, 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 fammi vedere, The Boys, io l'ho fatta, la Deluxe, sì, The Boys, anzi, mi ero venduto i brossolatini per farmi la Deluxe, pensa che, grazie, The Boys Deluxe, 6 volumi, 6 volumi, e quindi qua fanno i primi tracchi, però avete rotto il cazzo, perché sono soldi, sì, sì, sono soldi, per ora, sono soldi, poi tutto l'ottobre, tutto l'ottobre, cioè non c'è tipo ottobre, novembre, gennaio, no, perché tu in quella maniera li puoi prendere là e farli firmare da Ennis, esatto, 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 allora, facciamo che per ora rimangono lì, perché avete proprio rotto un po' la micchia, voi e The Variant, però, però, vediamo se, quest'anno dovessi decidere di non boicottare quella merda di Lucca Comics, e vediamo se e quanto è avvicinabile Ennis, vediamo cosa succede, ne riparliamo a novembre, ne riparliamo a novembre, va bene, Conary Barbaro, volume 1, non ti stai gasando, con tanto di Variant? eh, ma sai che ci ho pensato, però mi chiede di nuovo da capo, questi sono spillati, sai quando si parlava prima, troppi spillati, troppi spillati, eh, guarda, io lo so, troppi spillati, tu lo sai, Conan, deve essere anche bestiale, mi piace Conan, però, boh, ci sto pensando questa, ce l'ho lì, tanto si trovano, la Variant in qualche modo, magari la prendo, magari solo la Variant, e poi vediamo un attimo, eh, va bene, fai che pensarci, va bene, Panini Comics Integrale, Conan e Barbaro 6, The Witcher 5, The Witcher, volume 7, La Ballata dei Due Lupi, nessuno di noi sta facendo nulla di tutto ciò, Dune, Casa degli Atreides, Omnibus, 32 euro di cartonato, non ti stai gasando, ah, c'è, esce Dune parte 2 al cinema, pensa, non lo so per, sì, esce parte 2 a novembre, caldi, e quindi, non ti stai gasando, no, non l'ho, questi qui li avevano fatti, gli spillati, avevano fatti gli spillati, e, il prequel a Dune, è il prequel, praticamente, qual è, però ho capito, non ho capito, se questa roba sia, sia legata al libro di Dune, o una roba che hanno fatto, così, per adattarla al film, non credo che sia una roba, dell'autore ufficiale, ma lo so, beh, però Beppe, io, cioè, cercherei di informarmi, perché non darei per scontato, automaticamente, che sia una merda, no, no, però sai, cacchio, in passato, le comprovo tutte, queste robe, ma io sto parlando di 10 anni fa, all'incirca, mi prendevo, compravo tutto, prendevo, e dicevo, vabbè, ma una storia insatta, e quindi, poi, da lì in poi, io, ho sempre avuto un po' paura, di questi prodotti qua, cioè, non dico che sono merda a priori, però ero rimasto incurato, due o tre volte, diciamo, ma che cazzo, alla fine, boh, vabbè, comunque, non è che lo butto nel cesso, volevo solo capire bene, se effettivamente, era una roba legata ai libri, una roba che l'ha inventato loro, per legarlo a, a, beh, cerchiamo di capire, cerchiamo di capire, e, se qualcuno dovesse sapere qualcosa, può sempre, commentare qui sotto, Imen and the Masters of the Universe, Masterverse, ti stai casando? no, io, questo qua, no, non mi sono, non mi ha ordinato, non mi ha ordinato, no, perché è troppa roba, dobbiamo ancora arrivare ai manga, e i manga ci rivediamo, ma no, ma questa cosa qua, è perfetta per te, è roba anni, anni 70-80, gente con i capelli lunghi, dalla sessualità dubbia, non ti stai casando, cioè, vabbè, ma anzi, a me piaceva quello, cioè, questo qui è già un po' maschile, vero? esatto, era più bello l'altro, esatto, va bene, lascia perdere, sai, eccoci qua, Cyberpunk 2077, la tua voce, stavo continuando, stavo continuando a mettere volumi, eh, ma sai cosa, io li piglio, perché li devo prendere, basta, Cyberpunk si prende, 16 euro di cartonato a novembre, mi caso, roba giusto nel posto sbagliato, al momento sbagliato, questo è ciò che succede a Todd, un impiegato che durante un controllo di routine, si ritrova davanti a una misteriosa ragazza, che sta lottando con alcuni membri, di una gang, della Dark Polo Gang, finirà così invischiati in un'avventura, che gli stravolgerà la vita, e lo porterà a scoprire un lato di Night City, che finora non aveva mai visto, io sono caldo e un bonboiler, quella roba di Dune, volevo dire, che quella roba di Dune, è scritta dagli autori, dei romanzi best seller, quindi ok, boh, stavo ragione, ho fatto una mini ricerca, e quella roba di Dune, è scritta dagli autori, dei romanzi, io ci farei un pensiero, ci farei un pensiero, ci farei un pensiero, tu te ne sbatti invece, volevo vedere cosa mi dicevi tu, quando li leggeri, hai capito il bastardo, va bene, va bene, faremo così, Nemesis Reloaded, 19,90 euro di cartonato, sei caldo? questo qui, io avevo detto il primo, senza fare spoiler, è praticamente, avete presente Batman, sì, però il criminale del cazzo, perfetto, quindi con la testa di Batman, spietatissimo, sono un po' iscritto da Miller, questa roba qua, la prendo, la prendo, ma poi vediamo, poi vediamo, non lo so, di Miller ragazzi, io lo dico, faccio questo appello, dovete prendere Trouble, voi prendete Trouble, anche se avete una copertina davanti, particolare, prenderò lo stesso, sì, però Miller è un altro, che ha rotto il cazzo, qua solo, il Miller verso, facciamo solo delle robe, basta, basta, troppa roba, troppa roba, troppa, troppa roba, vediamo, ne riparliamo più avanti, se mi passa per le, anzi, facciamo che lo leggi tu, e poi me lo dici, esatto, esatto, ah che cazzo, Alien volume 4, Disgelo, Spawn Deluxe volume 9, Snow Angels, cos'è Snow Angels volume 2, gli autori più acclamati di, niente, niente la cazzata, ma cosa stai dicendo, si uniscono per una saga di fantascienze, ambientati in un mondo brutale, vince di sé, la Isle of War, qualcuno ci fa sapere qualcosa, sono Angels, perché sembra bestiale, però cazzo, volume 2, 21 euro di cartonata d'ottobre, cerchiamo di capire, non so perché mi ispira, Star Wars 32 con tanto di Variant, festeggiamo il numero 100, wow, Star Wars L'Alta Repubblica numero 8, Star Wars Sana Starro, Safari di Famiglia, Star Wars Yoda, Star Wars Epic Lando, romanzi alla ricerca del pianeta X, e si passa direttamente a Panini Kids, che non fa più la carrellata, adesso abbiamo direttamente le pagine intere per Panini Kids, è incredibile, le nuove avventure di Spider-Man volume 1, grandi poteri, gran confusione, stiamo prendendo Beppe, cartonato, cartonato, no, a parte che grandi responsabilità hanno in confusione, li vorrei dire ai bambini comunque, quindi lo disegno sciarrone però, è importante, Beppe è incazzato, Beppe è incazzato, no, no, va bene, va bene, va bene, scusa se ti è ben disturbato, Masche Orso, volume 6, Lego Dreams, Hot Wheels, Barbie Magazine, la mia prima Barbie, diventa stilista con Barbie, qua si passa alla carrellata, abbiamo solo delle robe bestiali, Lego Batman, Spidey e i suoi bestiali, amici bestiali, Spider-Man Magazine, Pokémon Magazine, Pokémon World, Enigmistica di Topolino, è devastante, e, eh, cosa, scusa, Magic the Gathering, Destroyer of the Humankind, The Candy Be Regenerated, praticamente, lo shonen, verrà stampato, lo shonen manga di Magic, no, che di fondo, non me ne frega un cazzo, però nella serie, concluso in 12 volumi, ognuno dei quali, solo per la prima tiratura, conterrà una carta foil, promo in lingua inglese, esclusiva panini, cioè ogni numero, saranno dopo, ci sarà una carta foil, io sta roba qua, Dio, mazzo, dovevo mandare gli ordini del 31, è una cosa che stavo ragionando, perché a me, dello shonen, non me ne frega un cazzo, quando le carte si, la collezione è così, poi, poi, niente, silenzio di editing, perché l'ha ucciso, questa cosa qua, eh, si prende, allora, aspettiamo calmi, sotto, intanto, vabbè, questo segnava un po' all'inizio, la prodo alla sezione Planet Manga, non so se si è capito già, dai silenzi mortuari, questa qui, se dobbiamo ordinarla, dobbiamo comunicarlo, entro il 31, allora, stefano, minchia, minchia, allora, siamo calmi, perché saranno 12 numeri, qua abbiamo il dettaglio dei primi 4, praticamente, in omaggio alla carta di oboliche, eh, sì, cazzo, io questo qui, questo qui, ci stiamo casando, però effettivamente, questa roba delle carte, a me mi piacciono i foil, così, te, mi chiedermi, parte dicembre, allora, saranno 7, diciamo, diciamo due robe, facciamo un po' di servizio, invece di continuare a cazzeggiare, allora, saranno 7,90 euro, sovracopertati, non ho capito, questo TBD, to be the side, vuol dire che il prezzo può variare, per me sì, cos'è che scrivono solitamente dopo, aspetta, niente, dopo il prezzo non scrivono un cazzo, quindi vuol dire che il prezzo può ancora variare, può ancora variare, allora, io farei attenzione a questa cosa qua, è interessante però, 7,90 euro, con, sovracopertato, un mensile, mensile, con carta foil, assieme, Beppe, io mi sto gasando, no, ma infatti penso che sto facendo la foto, io la sto mandando, te lo dì, però, sì, ci stiamo gasando, oggettivo, ci stiamo oggettivamente gasando, evitiamo cazzate, le facciamo giordinare subito, in modo che poi, eh, però mi sono scordato, la figlia di Cristo, sì, ti do fuoco, va bene, ci stiamo gasando, qua come funziona, cioè, in questo caso le dobbiamo ficcare tutte nel conto, sì, perché, eh, perché qua sì, 7,90 euro per 4, non ho voglia di farmi il conto, lo farò in post, va bene, va bene, lo facciamo, va bene, non c'è problema, e qua si parte con i cazzi su per il culo, perché Billy Butt, cofanetto, eh, numero, 1,5, eh, 37 euro e 50 d'ottobre, per forza, imprescindibile, già mandato, c'è niente da fare, ma tiratura, cartolina esclusiva, sì, per forza, cartolina esclusiva, e solo per gli ordini del tuo 31, spilla il regalo, Peppe, eh, sì, sì, no, ma io ho già ordinato, sì, ma questo è incredibile, lui ha già ordinato, lui l'anteprima l'ha vista in anteprima, ha capito, è bestiale sta cosa qua, lui c'è l'amante in panini, va bene ragazzi, allora, Unasawa non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo tutti quanti, è un maestro, stiamo parlando della mente geniale dietro i 30 century boys, dietro Monster, Yawara, è da fare, Billy Butt, io di Billy Butt, pensa, io ho questo, io Billy Butt, sai come lo conosco, tramite il cazzaro di Ema, Ah sì? Ema, mi spaccava il cazzo con Billy Butt, uno, no, ti devi leggere questa cosa a tutti i costi, perché è devastante, però, no, perché qua, adesso non mi ricordo, se era edito da J-pop, forse, non mi ricordo, ah, non mi ricordo che ce l'aveva Billy Butt, prima, però c'era un discorso particolare, i numeri non si trovavano, non riusciva a farlo, e allora io avevo detto, senti, non era, mi pare che non era finita, forse, esatto, esatto, c'era una roba di questo tipo, una roba di questo tipo, e, però, tocca prenderla, cazzo, tocca prenderla, questo film, guarda, subito, c'è capito, Kevin Yamagata, è l'autore nippo americano di un fumetto poliziesco, incentrato sulle avventure di un pipistrello detective, ti ricorda qualcosa? Ma sarà davvero tutta farina nel suo sacco? Quando fumettista scopre di aver inconsciamente copiato il suo celebre protagonista, da un manga giapponese, decidi di tornare in Giappone per fare chiarezza, la sua indagine però prenderà presto una piega misteriosa, e i piani del reale e dell'immaginario inizieranno a mescolarsi pericolosamente, qua Alan Wake, ed è vastante, ed è vastante ragazzi, va preso per forza, non c'è bisogno a pensarci un secondo, subito, e qua abbiamo ovviamente il dettaglio dei vari numeri, 1, 2, 3, 4, 5, 7 euro e 50 all'uno, sono tutti sovracopertati, ma se uno inizia a farlo si piglia il cofanetto, e non scassa la micchia, e bom, qua l'abbiamo chiamata, Yawara Ultimate Deluxe Edition, 15 bombe, ah, per forza, va bene, dai sì, sono 15 bombe a testa ad ottobre, tanto qua in manga da 15 bombe, ci casiamo, diciamo che è particolare la scelta, perché l'edizione di Yawara, la precedente edizione di Yawara, mi pare fosse iper mega tascabile, era proprio un'edizione piccolina, cioè più piccola, cioè più piccola del tank, e qua invece ci pisciamo, e facciamo 15 bombe, praticamente, la facciamo come, come si chiama, come il 20th century boys, Yawara, judoco eccezionale, vorrebbe tanto godersi gli ultimi anni di liceo, però, suo nonno, che bastardo, vuole farle vincere la medaglia d'oro ai giochi olimpici di Barcellona del 92, chi riuscirà a spuntarla? e raga, la spunta Gesù Cristo, palesemente, perché qua sono solo dei soldi da buttare, perché, va a finire così, per il maestro Rosauva, questo è altro, va bene, allora, basta però, c'è Gigoro, Gigoro Short Stories Collection, 15 euro, con sovra coperta d'ottore, mitico prequel di Yawara, autoconclusivo, si prende, ma vai sotto, vai sotto ancora, cosa abbiamo finito, no, Beppe, stai calmo, ti incazzare, aspetta, Asadora 1, variant 2000, 20 te, per forza, perché c'è Udasawa, Luca, questa roba qua, anche per dire, visto come Gartenzu, Udasawa è Luca, quest'anno, quindi per quello, c'è solo delle variant, delle robe, e infatti, abbiamo anche Pluto 1, Celebrity Variant, numero 10, ma sta roba si prende tutta, sono 7,90 euro, per due, a testa, si, questa roba qua, non c'è da pensare, variant esclusiva, solo in fumetteria, edizione celebrativa, per l'arrivo del Sensei, anche lì bisognerà vedere, quanto sarà avvicinabile, Asadora ragazzi, è praticamente, non è concluso, però è fermo, si è riuscito in sette, è uscito di già sette, e c'è scritto, a fine manga, a fine Tankmon, c'è scritto, per il numero 8, poi vediamo, per il numero 8, poi vediamo, scoprilo, va bene ragazzi, va bene, che problema c'è, allora, se abbiamo finito con Urasawa, Showa Shoten, il nuovo manga, disegnato da Takeshi Obata, cazzo, allora, di che cosa parliamo, l'ardente shonen, con cui far ridere, è una cosa seria, due ragazzi, cercano di sfondare, come duo comico, il primo, è un geniale umorista, con il terrore del pubblico, il secondo, incapace di ideare gag, e un vero e proprio piccio, sul palco, disegni di Obata, e, testi di Akinaria Sakura, sette euro, a novembre, sovracopertato, ti ispira, questa roba qua, in realtà, volevo dargli una sfogliata, perché, io volevo, che ci fosse una seconda parte, del tipo, ma però, poi iniziano a suicidarsi, allora, dici, vabbè, non penso, non credo Beppe, però, lui, questa cosa qua, l'aveva già fatta con Bakuman, che era la storia di quelli, che voleva fare in manga, no? Quindi, sai, adesso qua siamo passati, beh, attenzione però, i testi mo' sono di un altro, qua, lui, disegna, però, potrebbe essere interessante, però, sì, da sfogliare, da sfogliare, dice, diciamo che quando esce, o se riusciamo a recuperare, un capitolo da qualche parte, un primo capitolo da leggere, da qualche parte, bisogna capire, quindi da capire, mettiamola sul poi vediamo, ma assolutamente da approfondire, Death Note, short stories, mannaggia la loro madre, con tanto di Death Note numero 1, variant 2023, e voi non prendono, sono 14 euro a testa, mannaggia, con una storia completamente inedita in Italia, un volume, un volume che raccoglie, tutti i capitoli extra di Death Note, quindi anche quello che era incluso nel, nel volumone, che non l'ho, che non l'ho, penso per quella roba, cioè, mi prendo direttamente questo e basta, ma rifacessero, mi facessero una ridizione, invece di rompere i coglioni, con queste cose, cazzo, su di va cover variant, e rinizia Bakuman, chiaro, allora, vabbè, io Bakuman, sai che l'ho preso, cos'hai detto, cosa hai detto? no, no, cioè, praticamente è una, è una nuova edizione, solo, ho detto solo quelli, sì, perché non te l'avevo sentito, eeeh, io Bakuman, ce l'ho già, l'avevo preso a Ema, ce l'ho completa, ce l'ho completa, Bakuman, quindi è andata così, edizione da 7,50, sovracopertata, e questi ragazzi, sognano di diventare mangaka, sono caldi come i boiler, fondamentale, esatto, bellino, Bakuman era, devo dire, era bellino, niente, quindi anche Obata, si si gasa quest'anno, caldo come un boiler, niente, Bakuman, basta, doppia edizione di Bakuman, non mi sembra il caso, ce l'ho, eeeh, abbiamo finito così la questione, eeeh, minchia ragazzi, sono stanco, eeeh, cazzo, allora, Icaro No Go, Ultimate Deluxe Edition numero 1, allora, Icaro No Go, appunto, c'è sempre Obata al disegno, era di quelli che, che giocano appunto a Queo, giocano a Go, che è un gioco, gioco giapponese, che, di base, io non so, era una roba bella, che mi sarebbe piaciuto recuperare, però io non so se giustifica l'edizione da 15 euro, oggettivamente, cioè, non so se sia un capolavoro così, guarda, io di questa cosa, ho solo un ricordo di Dario Moccia, che sfotteva qualcun altro, c'era qualcun altro che si pisceva questa roba qua, Dario Moccia, che lo prendeva per il culo, io non lo so se sia effettivamente, cioè, se giustifica una Deluxe Edition, questo manga qua, e secondo lo vuole, magari si prende la vecchia edizione, magari, giochette insieme, magari spendi meno, bisogna capire, capolavoro di Takeshiobata, addirittura, autori di Etno Tebaco, ma ne va bene, preziosa riedizione dell'opera, che ha reso popolare in tutto il mondo, un gioco del Go, nuove copertine, grande formato, commenti inediti, e tutte le pagine a colori, presenti nella prima pubblicazione, eeeh, bisogna pensarci, perché era una roba, che volevo recuperare, però cazzo, 15 euro l'uno, mi pesa un po', 15 euro l'uno, mi pesa proprio un po', e quindi, che dire, ci penseremo, The First Slam Dunk, e resource, ordinato, e subito, cazzato, dietro le quinte, del film, vincitore premio bestiale, e va bene, e va bene, che final ordini, stiamo pisciando, 15 euro, anche perché, solo con la prima tiratura, c'hai la Lito, che daranno solo a Beppe, quindi, va bene, sono 15 euro a testa novembre, ci può stare, va bene, ragazzi, stiamo speedrunnando, però c'è, ci sono anche autori molto famosi, che c'è, c'è Slam Dunk, lo conosciamo tutti, Death Note, lo conosciamo tutti, voglio ben sperare, che ci sia poco da dire, Rebuild, Rebuild, Evangelion, complete regos con lei, che arrivavano i cofanetti, anche di quello, io avevo detto, e giustamente, hanno fatto i cofanetti, del resto, si fa i cofanetti, anche del Rebuild, qua Cesco si caserà, guarda, per me devono morire, gli artbook, dei primi due film, della tetralogia, inutile, di Rebuild, dove Evangelion, disponibili, in un elegante cofanetto, ragazzi, se non avete mai visto, i film di Evangelion, non guardateli, sono una perdita di tempo, vi faccio questo spoiler, limitatevi alla serie, che è bellissima, e ha senso di esistere, non fatevi prendere per il culo, e se uno fosse matto, come Cesco, e si vuole fare questi, non so, questi artwork, artbook, chiamali come cazzo vuoi, su 125 bombe ad ottobre, io direi che è palesemente andata così, e qua abbiamo ovviamente, il dettaglio, fondamentalmente, per i primi, due film, 1.0, 2.0, 2.22, bestiale, va bene, la guida di Tokyo, in manga, 19,90 euro, di brossurato, ad ottobre, 16 mangaka, la scoperta della città, quartiere per quartiere, un documanga realizzato, secondo la migliore tradizione, giapponese, Panini Guides, non, no, non mi ispira, un libro che unisce storie e fumetti, e una guida di ogni genere, l'idea, l'idea ci può stare, però non mi, così, non lo so, facciamo che lo sfogliamo quando esce, che dici? eh, esatto, esatto, facciamo così, facciamo così, Spy Family, calendario 2024, qua è come il calendario Pirelli, ci pisciamo, con tanto di variant, perché vuoi non avere la variant anche del calendario, voglio dire, esatto, va bene, Blue Lock, Episode Nagy, non ti stai pisciando? no, non l'ho fatta, Blue Lock, bravo, aspettita di fare tutta la pattumira che vedi, The Dangerous Convini Store, solo con la prima trattatura, una cartolina esclusiva per Beppe, sì, esatto, sei tu il mio angelo, io vedo che qua c'è, vedi che qua? no, la volta del supermercato, ci sono da mafioso, ci può stare, secondo me, questo è il nuovo Urasawa, secondo me, è un webtoon, è un webtoon, non può fare, e allora hanno rotto il cazzo, amanti dei boys novacoreani, allora sì, allora si compri, esatto, allora si, ci stai pisciando, Twisted Wonderland, il manga, Book of Hearts by Yul, Blind Pack, basta, c'è già solo, perché è un Blind Pack, io non voglio neanche sapere, c'è della Disney, c'è la Disney di mezzo, pensa, che palle ragazzi, anche qua, mille copie, cento copie, e regolare, immaginatevi un'accademia di magia, con un tocco splendidamente bad, un mix tra il mondo dei cattivi Disney e Harry Potter, dormitori con regole pazzesche, e una regina pronta a tagliarti il cazzo, su concept di Yana Taboso, l'autrice di Black Butler, ah, da popolare videogame per cellulari, il mondo, ah, è un gioco, a quanto pare era un gioco e diventa un manga, è andata, no, è andata così, va bene, chi l'ha la princess, 8 euro, ad ottobre, copertina varia di già da persino 8, le storie che disegni di Witch, tanta roba, però non so cosa sia sta roba qua, chi l'ha la conosce a memoria a tutte le storie dei principessi Disney, yeah, in una magica avventura in 5 volumi, scoprirà che realizzare il suo sogno e diventare una principessa, è molto più complicato, pericoloso e domantico, va bene, Beppe non la stai prendendo a regolare più Variant, questa ragazza qua, no, 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 scusa, ho chiesto, Sasaki Miano, numero 1 Variant, c'era una volta un ragazzo che amava i boys, l'oro, ma si rifiutava di viverne uno in realtà, e giustamente, ci può anche stare, in una splendida edizione Variant, ad ottobre, è andata così, Control più T2, il nuovo artbook di Ignio Asano, subito, no, amiche, 30 euro, no, però 40 euro, a ottobre, sempre, sempre, no, 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 non avevo ancora letto il prezzo, mi dispiace, 40 euro non ce la posso fare, Asano è, Asano è, è tantissima roba, però 40 euro di artbook non c'ho voglia, vediamo, poi vediamo, è andata palesamente così, per i 20 anni di carriera, tra l'altro, ci può stare, allora, Zombies Assemble, uno di due, con tanto di Variant, Beppe, io non lo so, no, manga con gli Avengers, ma io, no, ma è mezza roba che i giapponesi si mettono a fare, gli americani, non, no, no, se la possono palesemente tenere, fate qualche eccezione, me ne frega un cazzo, Avengers Arena, uccidi o muori, eh, praticamente è Battle Royale, fatto con i, ma perché, ma perché, risveglio, anche perché poi, oggettivamente, essendoci la Marvel di mezzo, non sarà mai una roba così spinta, no, no, non sarà come Battle Royale, sarà poi, tra l'altro 10 euro l'uno, è abbastanza, se lo tengono, toglie, e boh, ma continuiamo, Wolverine, Sneaked, dall'autore di Blam, raga, e Knights of Sidonia, chiaramente, 10 euro, ma cosa stanno combinando, ci mostra la sua versione di Wolverine, e anche qua, 10 euro, lo ebbra, boh, incommentabili ragazzi, Windbreaker, volume 4, le botte a scuola, Berserk Deluxe, volume 5, qua purtroppo, sono 50 bomba a testa, e anche qua, raga, io voglio sperare che Berserk, non abbia bisogno di presentazioni, Marmalade Boy Little Deluxe Edition, Watanare, non esiste che ci mettiamo insieme, oppure sì, capiamo, capiamo un attimino, C'è insomma in 14, Jujutsu Kaisen Sorcery Fight, Senseiya, Lost Canvas, il mito di Hades, True Beauty numero 7, Dangerous Buddy numero 6, Mieru Kuchan, Bentornato Alice, Excuse Me Dentista, numero 8 di 8, che finalmente finisce, Mayo Nero, facciamo carrellata veloce, direi, Mayo Nero, Demos Slave, Skeleton Knight in Another World, Boys Abyss 9, Eden Ultimate Deluxe Edition, che per la gioia di Cesco finisce, che erano 24 bombe l'uno, ultimo numero, Yu-Gi-Oh! Complete Edition numero 8, Moonlight Mile Ultimate Edition, Soul Eater, che finisce tra l'altro, Soul Eater Ultimate The Last Edition, numero 7, di 17, con crona in copertina, 13 bombe ad ottobre, per me, perché Soul Eater è obbligatorio, per forza, per forza, Giant Killing 57, sono 5,50 euro per Peppe, Agente 008, ma che sfacciato, City Hunter Rebirth, numero 12, ad ottobre, Banana Fish, tutto disponibile, non ti stai pisciando? Questi sono belli, sono belli. E per questo, io sapevo che li volevi fare, poi non li hai fatti. No, i primi due, i primi due, piano di particolare. Eh, ti potresti gasare, ti potresti oggettivamente gasare. Carrellata di nuovamente disponibili, qua di imprescindibile, vedo su un cofanetto completo, della Sandman Library, vedo, vedo i cazzi, aspetta un po' che non ci leggo, porca puttana, vedo altre robe di Sandman, 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 è tutto Sandman, tutto Sandman, vedo, Gas Ronin che è già di stato ristampato, c'è finito subito. Pensa. L'ultimo Ronin la stanno già ristampando a ottobre, ce lo sono preso tutti. Incredibile, è pazzesco che ci pensi. Amazing Fantasy 1000, di cui non vedremo mai la variant. Eh, la voria. Di cui non vedremo mai la variant. Pluto, è vero, ovviamente, tutte le ristampe di Pluto, visto che ora facciamo anche la variant numero uno, Slam Dunk, tutte le ristampe di tracce di sangue, torna disponibile, tantissima roba, tracce di sangue ve ne ho già parlato, Bugabon ne è ben già parlato, Doomsday Clock importantissimo, Happy, ah, aspetta, mi fate venire il dubbio, non è che era Happy che aveva, non mi ricordo se era Happy o Yawara che aveva quel formato tascabile bestiale. Allora lo ricordo. Potrei anche aver detto una cagata prima. Data così, supponso. Eh, Ikigami, tanta roba, Kenny il guerriero, tantissima roba. E qua, E poi? Sono dei cazzi. Perché abbiamo un nuovo album, qua abbiamo il momento figo, con un nuovo album che è imprescindibile da fare, perché Spider-Man benvenuti nel ragno verso, abbiamo l'album di Miles. Sì, sì, sì. Allora, qua cosa ci dici? Vabbè, c'è l'eco blister con le bustine, e, sì, e l'album cartonato, 16,90 euro, raga, per forza. Copertina disegnata alla Dellotto, che se riusciamo a incrociarlo di nuovo, noi siamo riusciti a farci firmare l'altra, se lo incrociamo ci facciamo firmare pure questa, questo si ordina, questo qui si deve ordinare. Obbligatorio. Topolino, storie e personaggi di un mondo fantastico. E questo, l'album? Eh, tu che dici? Io lo faccio. Questo qui, mi sembrerebbe, credo che ho paura solo di non, tre album, perché poi dopo ci sarà il terzo, spunterà. Ma sì, ma te ne sbatti il cazzo, lo facciamo, lo facciamo, ascolta me, facciamo, Naruto, lo facciamo. Non c'è problema. io no. Vabbè, però devi stare calmo, non è che ti devi incazzare, perché ti ho detto facciamo Naruto, cioè, no, puoi anche star sereno. Io Naruto lo faccio, ogni caso. E poi c'è Tex, c'è Tex, che è più imprescindibile, qua, 14,90 euro. Con il cartonato. Eh sì, ragazzi. E che cazzo, continua una storia fumetti a colori a completare, collezione epocale per i 75 anni, si sta facendo. Si sta, si sta facendo, decisamente. Mercoledì sticker album, di questo me ne sbatto abbastanza i coglioni, per esempio. Quello l'altro più di interesse. Eh sì, Harry Potter e le famiglie magiche babbane, perché d'altronde ho fatto gli altri due, si fa anche questo. Gli altri tre, forse, perché erano gli attori di Harry Potter, le creature magiche che ho preso, e non ne dovevo uscire anche un terzo sui luoghi del castello, i luoghi del film, che però ovviamente non ho ancora. Non te lo ricordi. Boh, non me lo ricordo. Non l'ho visto nelle vecchie antediche. Cioè, oh sì, ho forse perso addirittura quello dopo i luoghi del castello, mi sa. Vabbè, per ora ho gli altri due, tanto di Harry Potter li faccio tutti, non ce n'è problema, 3,90 euro, 4,50 euro. Problemi non ce ne facciamo. E questo lo fa Beppe, Barbie insieme splendiamo. Sì, sì, esatto. Sì, esatto. E, raga, in realtà, per ora, sarebbe finita la... sarebbe finita la parziale. Facilmente, questa la teniamo così anche, perché guarda, di parziale siamo arrivati a un'ora e 53. Veda lei. Veda lei. Mi sa che questo mese si salta Star Comics, è palesemente andata così, perché non ne esco più. Non ne esco più, adesso inizierò a fare i turni, a lavorare come un matto, e non... non se ne esce veramente più. Quindi vediamo, iniziamo a vedere se esce così com'è. Grazie, grazie per l'attenzione, a chi è arrivato fino in fondo. Mi raccomando, ricordatevi di sgranare responsabilmente, fatevi sempre le vostre ricerche. Cerchiamo di capire un attimo. Io spero che questo video, almeno per fine mese, esca, ma non assicuro nulla, perché non assicuro nulla. Prima o poi uscirà, magari poi escono tutte, escono in ritardo, saranno inutili, però ce l'abbiamo lì, come testimonianza storica. Però bisogna capire, bisogna capire cosa riuscirò a fare. Che dire, è stata un'anteprima sofferta, perché comunque molta roba l'abbiamo lasciata indietro. Pieno, pieno. Eh, pieno di roba. Molta roba l'abbiamo lasciata indietro e nonostante siamo qua, siamo qua, che c'è da spendere migliore. Esatto. Boh, che dire, vediamo come va a finire, vediamo se ci arriviamo vivi, a Lucca, e... No, basta. E boh. Direi che abbiamo finito, ci vediamo, ci sentiamo tutti quanti per l'anteprima numero 385. Buona serata. Esatto. A tutti. Buongiorno. Buongiorno. Oh,